Ok, ci siamo, do la parola al dottor Rosati che procede all'appello. Buongiorno a tutti. Allora, Ballatore Mario. Presente. Balloni Gianni Massimo. Capriotti Antonio. Presente. Chiarini Giovanni, ok? Chiodi Carmine. Presente. Crescenzi Brunilde. Presente. Croci Antonella. Presente. Cursi Marco. Presente. Devex Giorgio. Delzompo Emidio. Presente. Di Francesco Antimo. Presente. Falco Rosaria. Presente. Gabrieli Bruno. Presente. Girolami Mariadele. Presente. Lelli Francesca. Presente. Mandrelli Flavia Marcella. Presente. Marzonetti Pasqualino. Presente. Massimiani Giacomo. Presente. Morgandi Maria Rita. Presente. Muzzi Stefano. Presente. Per lei Domenico. Presente. Pignotti Valerio. Presente. Più di Pasqualino. Presente. Pompili Gabriele. Assente. Sanguini Andrea. Presente. Ok. Allora. Tutti presenti. Meno tre persone. Quindi possiamo iniziare. Grazie segretario. Quindi costatata la presenza del numero regale. Dichiaro aperta la seduta odierna del consiglio comunale. Passando subito al punto numero uno dell'ordine del giorno che è l'approvazione verbali seduta precedente del 26 4 2021. Procediamo alla votazione. Ballatore Mario. Favorevole. Balloni. Favorevole. Capriotti. Favorevole. Chiarini. Favorevole. Chiodi. Favorevole. Crescenzi. Favorevole. Croci. Favorevole. Cursi. Favorevole. Delzombo. Favorevole. Di Francesco. Era presente. Era presente. Sì. Di Francesco. Favorevole. Ecco. Falco. Favorevole. Gabrielli. Favorevole. Girolami. Favorevole. Lelli. Favorevole. Mandrelli. Favorevole. Marzonetti. Favorevole. Massimiani. Favorevole. Morganti. Assente. Muzzi. Favorevole. Pellei. Favorevole. Pignotti. Favorevole. Pimpili. Assente. Sanguigni. Favorevole. Sì. Quindi il consiglio approva l'unanimità dei presenti. passiamo al punto numero due interrogazione consigliere Andrea Sanguigni ed altri ad oggetto richiesta chiarimenti sulla responsabilità del mancato arrivo del contributo previsto e approvato con decreto DDPF del numero 186 del 15 10 2019 da parte della regione Marche di Euro 38.654 e 40 per finanziare il progetto di promozione dei prodotti della pesca e dell'acqua cultura sostenibili denominato intico 2019 passo la parola al consigliere Sanguigni per l'illustrazione dell'interrogazione grazie presidente e buongiorno a tutti allora innanzitutto premetto che l'interrogazione è firmata anche dai consiglieri antimo di Francesco e Flavia Mandrelli solo per una questione di tempo non sono riuscito a prendere tutte le firme però per la correttezza lo dico e allora cerco di prima di andare alle domande vere e proprie dell'interrogazione cerco di fare una premessa il più breve possibile per evitare di leggere tutta l'interrogazione che sono tre pagine e allora il Ittico 2019 è rientrato praticamente in un bando regionale dove si praticamente si promuovono un bando finalizzato alla promozione dei prodotti della pesca e dell'acqua cultura sostenibili e quindi si è inserito lì Ittico 2019 gestito dalla CESCOT, la Confederazione Centri il bando prevedeva un contributo rispetto al totale delle spese dell'80% il bando regionale quindi a fronte di un totale di 48.318 euro di spese il comune avrebbe dovuto contribuire con circa 9.000 e tramite il bando regionale avremmo dovuto acquisire 38.000 euro circa il bando regionale ha avuto esito positivo con comunicazione del 16 ottobre 2019 comunicato al comune che insomma il progetto era stato approvato poi con delibera di giunta del 12 novembre 2019 è stato approvato di accettare il contributo comunicato dalla regione e viene fatto una sorta di affidamento agli uffici competenti di procedere affinché tutto possa andare nel migliore dei modi per acquisire questo contributo poi diciamo che c'è un po' il buco che è l'oggetto dell'interrogazione perché poi che succede? questo contributo non si riesce fondamentalmente a prendere io vado molto veloce e poi magari chi mi risponderà potrà approfondire se vuole alcuni punti potremmo farlo insieme e che succede? praticamente la CESCOT dopo un anno e mezzo che non riceve insomma il pagamento da parte del comune alla fine perché comunque le fatture erano indirizzate al comune che poi si sarebbe dovuta rifare sulla regione grazie a questo bando vinto fondamentalmente viene praticamente fa scrivere la CESCOT dal suo avvocato al comune per cercare di ottenere una una buonaria un buonario esito magari tramite un semplicemente mettersi d'accordo e questo è avvenuto perché praticamente con nota protocollo 16049 del 5 marzo 2021 a firma del vice sindaco Pierluigi Tassotti è stata comunicata la disponibilità dell'amministrazione di addivenire ad una soluzione della controversia riconoscendo a CESCOT l'importo massimo di 37 mila euro anziché i 48 mila spesi fondamentalmente per cui essendo questa manifestazione ittico 2019 è stata inserita anche nella festa della Madonna della Marina organizzata dall'associazione San Betto in festa che cosa è successo? che comunque l'associazione ha messo a disposizione i tendoni la vigilanza e tutto ciò che compa tutte le spese che comportano comunque una festa insomma le associazioni che organizzano lo sanno benissimo tutte le spese che ci sono per cui questo mancato introito di circa 10 mila euro alla fine è ricaduto anche sulle tasche dell'associazione oltre che della Confesercenti e di tutte le associazioni coinvolte per cui alla fine di questo preambolo spero di non aver dimenticato nulla si chiede se sapete indicare a quanto ammonta la perdita economica per il comune di San Benedetto a causa del mancato introito del contributo regionale e quali sono le cause soprattutto? cioè il discorso è che a un certo punto non si capisce se c'è qualche ufficio che non ha fatto il suo dovere oppure non c'è stata abbastanza presente la politica dietro affinché si raggiungesse e si compisse questo risultato perché alla fine bastava solo un atto di chiusura c'era tutto, c'era il contributo, c'era il regionale quali dovevano essere gli uffici competenti di cui si parla negli atti perché si parla spesso di uffici competenti ma non si indicano mai quali sono questi uffici competenti che avrebbero dovuto seguire il leader procedurale burocratico permettendo nel buon esito chi ha manifestato un'assevita mancanza di volontà di portare a compimento il leader procedurale della manifestazione della retativa rendicontazione finalizzata all'ottenimento del contributo questo è importante cioè c'è qualcuno che si è messo di traverso cosa è accaduto? perché non è normale che un contributo accettato non vada a buon fine si fa inoltre notare e si chiede se corrisponde a verità che la manifestazione ittico 2019 proprio su richiesta del sindaco si veda progetto inviato in Regione è stata inserita all'interno dei festeggiamenti in onore della Madonna della Marina come dicevo prima ascoltati i responsabili dell'associazione San Betto in Festo organizzatrice dell'evento Festa Madonna della Marina dove si è inserito ittico 2019 si evince che la stessa associazione si sia trovata ad anticipare parte dei costi per la realizzazione dell'evento quello che dicevo prima ed oggi a causa della transazione fatta saldo e stralcio con Cesscott si è vista a sua volta decurtare le proprie aspettanze si chiede inoltre se corrisponde a verità che il vice sindaco Pierluigi Tassotti al tempo assessore di riferimento abbia chiesto ai responsabili dell'associazione San Betto in Festa di riproporre lo spettacolo delle fontane danzanti già fatto nel 2018 l'anno precedente che ha avuto successo impegnandosi a trovare ulteriori fondi visto l'elevato costo dello spettacolo stesso pare si parli di una somma di euro 7.000 da ricavare tra i contributi straordinari richiesti e conseguentemente largiti a favore di questa amministrazione per 5.000 euro dal BIM e 2.000 euro dalla CIP destinati a parziale copertura delle spese per gli eventi culturali dello stesso anno in corso è vero che questo contributo promesso all'associazione non è mai arrivato? Grazie Grazie consigliere Sanguini do la parola al sindaco per la risposta prego sindaco Grazie presidente buongiorno ancora a tutti quanti gli interroganti hanno chiesto contestualmente la risposta sia orale in consiglio che sto per dare sia scritta quindi essendo già stata prodotta la risposta il documento scritto che cerca di chiarire tutti quanti i passaggi che sono stati che sono emersi dall'interrogazione ve la leggerò il contributo di 38.654,40 euro pari all'80% della spesa ritenuta ammissibile estimata in euro 48.318 risulta assegnata a questo ente a seguito di una domanda e di un progetto presentati alla regione Marche a mia firma quindi la firma del sindaco a giugno 2019 nell'ambito dell'avviso pubblico come spiegato bene il relatore per la presentazione delle domande di contributo misure connesse alla commercializzazione relativa alla deriva di giunta regionale 782 del 18 di luglio del 2016 secondo avviso nella richiesta veniva riportato che i soggetti coinvolti sarebbero stati l'associazione San Benedetto in festa e la confestercente Cescot provinciale di Ascoli Vicene a Fero fatta questa premessa insomma la suddetta domanda di partecipazione dell'assegnazione dei fondi è stata presentata alla regione Marche in esito a diverse riunioni che hanno coinvolto prima si parlava di servizi il servizio cultura e turismo di questo ente e i funzionari della regione Marche i capitoli di bilancio del 2019 di entrate e di spesa destinati alla gestione finanziaria degli impegni e pagamenti delle spese inerenti alla manifestazione dell'accertamento e incasso del suddetto contributo sono assegnati entrambi al servizio sviluppo Europa di questo comune questo per quanto riguarda insomma i servizi di cui si parlava entrambi i suddetti servizi erano assegnatari per competenza della gestione amministrativa e finanziaria del procedimento che sono stati coordinati sotto l'aspetto politico dall'allora mia segretaria dall'allora capo di gabinetto a seguito della soddetta domanda di contributo e prima dello svolgimento della manifestazione denominata ittico non è stato però redatto da parte del servizio competente per materia alcun provvedimento l'impegno di spesa per l'affidamento delle attività di progettazione organizzazione e gestione della manifestazione considerato che l'amministrazione comunale aveva dato indicazioni per le vie brevi di finanziare la manifestazione solo nell'ipotesi in cui il comune di San Benedetto fosse stato ammesso al suddetto contributo di tale condizione la CESCOT era stata messa preventivamente a conoscenza l'evento risulta essere stato svolto nel periodo estivo dell'anno 2019 ma solo a ottobre si è avuta notizia dalla regione con una nota protocollo del 16 di ottobre la numero 68242 dell'ammissione della domanda presentata e della concessione del relativo contributo a fronte di tale comunicazione come una mail del capo di gabinetto dell'11 11 2019 quindi novembre 2019 è stato dato mandato al segretario generale e ad un dirigente diverso dagli uffici competenti per materia di procedere all'accettazione del cofinanziamento previa delibera di giunta la numero 119 del 12 di novembre sempre del 2019 tuttavia il non ottemperamento alle prescrizioni dettate dal bando europeo presso la regione Marche riconducibile alla mancanza a monte del formale affidamento a mezzo di determinazione dirigenziale delle attività di progetto da parte del settore competente per materia la disporsa evidentemente ai sensi del decreto legislativo numero 50 del 2016 ha determinato tra l'altro la mancata acquisizione del CUP e CIG strumenti necessari per garantire la tracciabilità dei pagamenti connessi al contributo ottenuto ai sensi della legge 136 del 2010 la rendicontazione alla regione Marche presupponeva il necessario preventivo pagamento dell'importo totale della manifestazione così come rendicontata da CESCOT ossia la cifra che vi ho detto in premessa 48.318 euro con la consapevolezza che il mancato affidamento della manifestazione alla CESCOT e la conseguente mancanza di tutti i requisiti amministrativi del procedimento avrebbe comportato l'impossibilità di percepire il contributo regionale ha indotto l'amministrazione a non disporre il pagamento della fattura per intero evitando in tal modo l'accollo totale della suddetta spesa successivamente su impulso della CESCOT si è divenuti ad un accordo transattivo attraverso il quale è stata riconosciuta la stessa la cifra di 37.000 euro in luogo di euro 48.318 questi insomma sono i fatti poi per quanto concerne lo spettacolo delle Fontane che viene riportato in un'intervocazione il vice sindaco Pierluigi D'Assotti ha avuto un confronto preliminare con il signor Gaetani che poi è responsabile dell'associazione San Benedetto in festa nel quale si è stabilito che il comune avrebbe richiesto contributi straordinari aggiuntivi per sostenere il finanziamento dello spettacolo il quale comunque era inserito all'interno del cartellone dei festeggiamenti della Madonna della Marina finanziata con lo stanziamento del relativo capitolo di spesa complessivamente assegnato nel bilancio comunale questi contributi seppure richiesti non sono stati concessi al comune grazie grazie sindaco do la parola al consigliere Sanguigni per l'espressione del grado di soddisfazione prego consigliere allora io praticamente il sindaco ha letto quello che già è scritto negli atti nella delibera quindi tutte cose diciamo che già sapevo tra l'altro si continua appunto a nominare questi uffici competenti in materia ma non non si individua quale sia stata la causa perché cioè alla fine la causa io non ho capito qual è stata del mancato arrivo di questi 38 mila euro da parte della regione perché insomma una causa ci deve essere stata no? quindi il mancato affidamento del CIG e CUB cioè io mi aspettavo una risposta un po' più mirata e meno generica capito? allora vista la mancanza di un formale affidamento ad attività di progetto da disporsi ai sensi dell'articolo di legge 50 2016 non ha consentito di acquisire CUP e CIG strumenti necessari tra l'altro per garantire la tracciabilità dei pagamenti chi doveva acquisire questo CUP e CIG chi lo doveva fare? cioè questa è la domanda nel senso perché questi soldi alla fine non vengono acquisiti perché in altre città per lo stesso progetto è avvenuto il contrario questi soldi sono arrivati a destinazione cioè io non ho non ho avuto risposta sinceramente a questa domanda perché poi parliamoci chiaramente in una nota del dirigente la nota numero adesso ve lo dico subito nota numero 5, 6, 7, 9 del 29 gennaio 2020 dirigente settore politica e sociali welfare del cittadino diceva chiaramente che la scrivente venuta a conoscenza da parte del dottor Cava e della segretaria generale della problematica e delle difficoltà connessa ad una serita mancanza di volontà manifestata dai settori competenti per materia di portare a compimento l'iter procedurale della manifestazione della connessa rendicontazione finalizzata all'ottenimento del contributo da parte della regione Marche ha dovuto provvedere su richieste dell'amministrazione prima all'accettazione poi al cofinanziamento eccetera eccetera cioè qua c'è qualcuno che si è messo di traverso se no l'interrogazione non c'è è tutto chiaro c'è tutto scritto nella delibera però io mi aspettavo che uscisse un buon attimo fuori se c'era stato qualche problema un po' più grave perché non credo che sia normale che un contributo regionale garantito all'amministrazione comunale poi non venga non venga fatto tutto l'iter che potesse permettere di acquisirlo quindi diciamo che sulla prima parte non sono per niente soddisfatto sulla seconda parte si prende nota appunto che che c'era stata una promessa di contributo straordinario da parte dell'assessore Tassotti che poi non è stato erogato diciamo che sulla seconda parte sono soddisfatto perché è stato riconosciuto ciò che realmente è avvenuto per cui penso di non dover aggiungere altro e comunque giusto una puntualizzazione è il comune che ha richiesto la transazione poi alla fine alla confesercenti e non il contrario non la confesercenti al comune insomma alla fine questi 7.000 euro sono svaniti nel nulla non si sa chi li ha presi però va bene così quindi grazie a tutti grazie consigliere Sanguigni passiamo al punto numero 3 che in sede di conferenza capigruppo è stato accorpato al punto numero 4 e sono due comunicazioni che riguardano l'ufficio bilancio il primo è la comunicazione prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo di riserva di cassa il secondo comunicazione prelevamento dal fondo rischi e contenzioso passo la parola all'assessore Peppa che ci illustrerà le due comunicazioni prego assessore buongiorno a tutti quindi comunico io relativo al primo punto comunicazione del prelevamento del fondo di riserva del fondo riserva di cassa di euro 44.910 euro ai sensi dell'articolo 166 del testo unico degli antilogali quindi ci sono state per euro 12.000 per consentire l'acquisto di nuovi dispositivi di protezione individuale in considerazione del fabbisogno del consumo delle relative scorte poi euro 17.910 per l'urgente sostituzione di due lavatrici che erano vetuste per il centro sociale primavera avevamo già verificato come non era funzionante era da dismettere e l'altra aveva dei gravi problemi non sanabili non conveniva neanche la riparazione euro 15.000 per il decoro dei writer alla parete ovest del ballarin per quanto riguarda il prelevamento del fondo rischi contenzioso sono intervenute due delibere di giunta una alla 48 del 30 marzo del 2021 che era l'oggetto del bilancio di previsione del 2021 2023 prelevamento del fondo rischi contenzioso per un risarcimento di danni e spese processuali per euro 2395,88 e con delivere al numero 91 del 18 maggio 21 ad oggetto bilancio di previsione del 2021 2023 prelevamento al fondo rischi contenzioso per un risarcimento di danni e spese processuali per euro 6.284,72 grazie 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 assessore passiamo al punto numero 5 ratifica variazione di bilancio adottata in via di urgenza ripasso la parola all'assessore pepa che ci illustra la delibera prego assessore grazie di nuovo per la parola la giunta comunale in data 18 maggio del 2021 ha approvato un'importante variazione di bilancio per un alto valore sostanziale politico questa variazione è stata infatti determinata per risorse aggiuntive create tramite l'attività amministrativa interna e occogliendo opportunità di finanziamenti esterni ci ha permesso di risolvere rilevanti e delicati problemi della città per realizzare utili investimenti sul territorio e tutto questo senza alterare gli equilibri di bilancio cioè senza dover al contempo volare alcuna dolorosa rinuncia perché tale programmazione implementativa come si vince adesso dall'elenco che andrò a dire è stata realizzata attraverso nuove risorse aggiuntive riperite opportunamente per incrementare l'elenco degli interventi da realizzare e ponendoli in aggiunta al nostro bilancio e quindi la continuità dell'attività amministrativa ordinaria a riparo di ogni rischio e vado ad elencare quindi euro 400.000 provenienti da nuove pratiche edilizie rilasciate che verranno usate per metà per la sostituzione di pari della pubblica illuminazione e per l'altra metà per interventi sulla piscina comunale 200-200 poi euro 230.000 619 recuperati dai risparmi dei ristori covid che ci permetteranno di alleggerire il peso tributario sull'atari dei nostri cittadini poi un contributo regionale di euro 53.109 75 per interventi presso la riserva naturale della sentina euro 44.500 riscossi a titolo di indennizi occupazioni da destinare all'onotenzione del cesare occupato dell'ex demanio euro 60.000 021 20 come contributo del ministero all'interno per i lavori presso la scuola caselli ancora euro 124.000 circa derivati da incasso cauzione e restituzione anticipazione da utilizzare per terminare i lavori di manutenzione non effettuare euro 103.200 a un altro contributo della regione per la realizzazione delle pensiline euro 61.000 doneri di urbanizzazione destinale alla pista ciclabile Moretti euro 46.370 come contributo della regione per l'acquisto del treaudo ibride con la con partecipazione del comune per euro 17.859 quindi propongo l'approvazione della ratifica della variante di bilancio che era ripeto approvata in via d'urgenza dalla giunta con il provvedimento del 18 maggio del 2021 grazie grazie assessore dichiaro aperta la discussione chi vuole intervenire se non ci sono richieste di interventi non vedo ok se non ci sono richieste di interventi direi di mettere di passare subito alla votazione della delibera in oggetto il punto numero 5 ratifica variazione di bilancio adottata in via d'urgenza ballatore Mario favorevole balloni favorevole capriotti contrario chiarini favorevole chiodi favorevole crescenzi favorevole croci favorevole cursi favorevole dei vecchi se che ho visto entrato non si è sentito Giorgio contrario grazie del sompo favorevole di francesco contrario falco favorevole gabrielli contrario girolami favorevole lelli favorevole mandrelli contraria marzonetti favorevole massimiani favorevole morganti non c'è musi favorevole pellei contrario pignotti favorevole piunti favorevole sanguigni contraria con sedici voti favorevoli e sette contrari l'assemblea approva il punto numero cinque passiamo subito alla votazione per l'immediata eseguibilità ballatore favorevole balloni favorevole capriotti contrario chiodi favorevole crescenzi favorevole croci favorevole Devecchis contrario Delzompo favorevole Di Francesco contrario Falco favorevole Gabrielli contrario Girolami favorevole Lelli favorevole Mandrelli contraria Marzonetti favorevole Massimiani favorevole Morganti assente Musi favorevole Pellei contrario Pignotti favorevole Pionti favorevole Sanguigni contrari con sette contrari e sedici favorevoli si approva l'immediata eseguibilità passiamo al punto numero sei anch'esso in sede di capigruppo accorpato al punto numero sette numero otto e numero nove con tempi di discussione di venti minuti e cinque minuti per la replica i quattro punti prevedono punto numero sei esame di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020 punto numero sette rinnovo contratto collettivo nazionale per il personale dirigente per il triennio 2016-2018 con applicazione avanzo accantonato punto numero variazione al bilancio di previsione 2021-2023 con applicazione avanzo di amministrazione vincolato e il punto numero nove variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e applicazione avanzo di amministrazione destinato passo subito la parola all'assessore Peppa per le illustrazioni delle delibere in oggetto prego assessore grazie per la parola lo dicevo nel pino regolare il rispetto della normativa vigente che per il corrente anno fissa la scadenza e la relativa approvazione al 31 maggio 2021 portiamo oggi all'esame del consiglio comunale la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del rendiconto di bilancio 2020 riconnesse proposte riguardanti la destinazione dell'avanzo vincolato e dell'avanzo dedicato agli investimenti il rendiconto di bilancio è composto da tre conti il conto di bilancio che registra sia nella parte di competenza dell'anno 2020 che residuale relativa agli anni pregressi i movimenti finanziari partendo dagli incertamenti di entrata e dagli impegni di spesa il conto economico che registra le voci di competenza economica i costi e ricavi di competenza del 2020 e il conto patrimoniale la situazione patrimoniale attuale dell'ente mi sembra doveroso premettere che in pieno rispetto della legislazione vigente delle deliberazioni citate sono allegati agli atti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del nostro dirigente al settore economico e finanziario e del collegio di revisione l'intero materiale è stato messo a disposizione dei consiglieri in data 5 maggio 2021 quindi ancora di più dei 20 giorni disegnati dalla legge la proposta del rendiconto del bilancio 2010 è già stata approvata dalla giunta comunale con la delibera il 16 aprile 2021 numero 62 e le proposte di destinazione dell'avanzo vincolato e destinato agli investimenti sono state oggi approfondite e discusse in commissioni di bilancio il 20 maggio e in capigruppo consigliari il 21 maggio alle citate proposte deliberative si è giunti con un approfondito lavoro di verifica e controllo che ha condotto il servizio di bilancio del nostro ente ma che ha coinvolto tutti i responsabili dei servizi comunali in particolare nella fase propedeutica fondamentale di riaccertamento dei residui attivi e passivi il conto di bilancio riguarda sia i movimenti finanziari di competenza del 2020 che quelle residuali che si riferiscono agli anni precedenti i residui sia attiva che appunto sono i crediti che passivi che appunto sono i debiti sono conservati in bilancio comunale sentivi responsabili dei servizi di competenza che devono attestare le ragioni di persistenza delle specifiche voci e debitorie creditorie e debitorie da mantenere il rendicoso di bilancio presenta un avanzo complessivo ricavato dalla somma d'oro dal fondo di cassa al 31 dicembre 2020 aumentato da residui attivi e diminuito da residui passivi pari ad euro 33.435.657,15 tenuto conto delle destinazioni vincolate e degli accertamenti obbligatori ai fondi tale risultato si trasforma in un disavanzo tecnico di euro 6.208.085,16 a tale risultato siamo arrivati attraverso questa disposizione analitica una parte accantonata la parte vincolata la parte destinata agli investimenti e la parte disponibile per la parte accantonata abbiamo un fondo credi dubbi e esigibilità per euro 31.034.250 un fondo di indennità di fine mandato per euro 14.550 un fondo rischi contenzioso per euro 3.021.540,29 un fondo per perdite di aziende istituzioni società partecipate per euro 286 086,43 fondo rinnovi contrattuali per euro 515 949,15 per la parte vincolata dalle leggi e dei principi contabili per euro 2.690.252,93 da trasferimenti per euro 1.703.317,24 dalla contrazione dei mutui pari a zero dei vincoli formalmente attribuiti all'ente per euro 88.809,86 per la parte destinata agli investimenti abbiamo euro 288.988 per la parte disponibile appunto questo disavanzo tecnico di 6.208.88 il risultato relativo all'esercizio amministrativo 2020 visto come differenze fra entrate e uscite finanziarie di competenze dello specifico anno è positivamente positivo malgrado tutte le difficoltà legate al covid al netto gli accontamenti obbligatori e ammonta ad euro 299.240,84 ma visto che rendi conto il bilancio 2020 complessivo quindi delle voci risoluzionali relativa agli anni pregressi una volta operati gli obbligatori accantonamenti termina in questo concetto del disavanzo quindi dobbiamo spiegare che cosa è che cos'è il disavanzo che è tecnico e non gestionale dovuto al passaggio dettato dal legislatore del metodo di calcolo dal fondo crediti di dubbi e esigibilità con il metodo ordinario in sostituzione del precedente calcolo che era del metodo provvisorio sicuramente molto meno oneroso non si tratta per tanto di un deficit derivante da una gestione finanziaria negativa con uscite maggiori alle entrate bensì di un disavanzo determinato dalla necessità obbligo di operare un ulteriore accantonamento di somme al fondo credito di dubbi esigibilità per euro 8.988.074,02 con la delibera del consiglio cumulare del 22 maggio 2020 numero 23 relativa all'approvazione del rendiconto di bilancio del 2019 il nostro ente perfezionò il passaggio obbligatorio al metodo ordinario per la determinazione del fondo credito di dubbi e esigibilità e quindi operò un ulteriore accantonamento che determinò per l'appunto un disavanzo tecnico di euro 8.988.074,02 tale disavanzo è sanabile con riparto quindicinale per quote annuali costanti per gli obbligo di riduzione utilizzando annualmente in sede di rendiconto l'eventuale avanzo disponibile realizzato questo significa che l'ente ferme restando le rate costanti annuali del piano di risanamento quindicinale all'obbligo in occasione di ogni rendiconto di bilancio di ridurre il disavanzo tecnico citato gli eventuali avanzi disponibili qualora vi siano tali disponibilità l'ente potrà quindi ridurre il periodo di ripiano in 15 anni e in questo senso che questi uffici stanno procedendo però la buona gestione ci ha permesso di ridurre in due esercizi amministrativi tale disavanzo ad euro 6.208.085.16 quindi con una decurtazione di euro 2.779.988.86 di molto superiore alle due rate annuali previste si tenga conto che la nostra ulteriore specifica proposta di oggi ridurremo tale disavanzo tecnico di ulteriori 288.986.14 con l'utilizzo dell'intero avanzo destinato agli investimenti e quindi lo stesso disavanzo si attesterà alla fine ad euro 5.919.099.00 Il fondo crediti di dubbi e esigibilità si determina in relazione in misura ai mancati incassi delle entrate residuali comunali che attualmente si attestano ad euro 31.034.250.27 la sua crescita è dovuta all'aumento della percentuale di calcolo di imposta ma anche soprattutto dal crescere della difficoltà oggettiva di incassare prodotte da una situazione di emergenza pandemica attuale che ha creato tante problematiche di natura finanziaria ed economica all'intera popolazione cittadina e nazionale le somme citate accantonate al fondo credo di dubbi e esigibilità di importo quindi rilevante sono state torte dalle disponibilità dell'amministrazione comunale che malgrado ciò ha sempre assicurato la regolare e tempestiva erogazione di tutti i servizi comunali aggiungo che oltre al fondo credito di dubbi e esigibilità sono stati operati ulteriori importanti doverosi accantonamenti aggiuntivi appunto come dicevamo al fondo contenzioso che talmente risidono in euro 3.021.540.29 tali accantonamenti prudenziali servono per proteggere la gestione amministrativa da rischio di socconvenza condiziosi relativi agli anni pregressi che potrebbero generare squilibri di bilancio e quindi la rinuncia o il ridimensionamento di alcune parti dell'attività amministrativa comunale tanti sono stati per tanti sacrifici imposti all'amministrazione visti come riduzione di importanti disponibilità obbligatoriamente accantonate ma questo ribadisco non ha impedito il raggiungimento di tanti impizi di traguardi in questi ultimi anni e l'erogazione dei tradizionali servizi comunali di natura istituzionale sociale culturale e turistica con la presenza di un disavanzo tecnico l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione riguarda il solo avanzo vincolato rappresentato da fondi ricevuti con un preciso vincolo di destinazione non ancora utilizzabile ora impiegabili sembrano rispetto del vincolo di destinazione originale con detto avanzo vincolato dal 2020 in parte utilizzabile nel rispetto all'articolo 775 del TUEL con degredo dirigenziale in parte con la proposta deliberativa di impiego inserita all'ordine del giorno di questo consesso è così composta e deriva da leggi e principi contabili per 2.690.252,93 da trasferimenti per 1.703.317,24 abbiamo detto niente per i mutui da vincoli formalmente attribuiti all'ente per 88.809,86 nella parte di provenienza da leggi e principi contabili sono compresi i fondi di ristori covid statali non ancora utilizzati ma che possiamo ora utilizzare per importanti impieghi per la copertura di mancate entrate registrate particolarmente di carattere tributario a montanti complessivi euro 2.161.642,14 fra le risorse disponibili da poter utilizzare mi piace ricordare la somma recuperata di euro 119.178,08 da destinare ad iniziative di carattere turistico dal rendiconto di bilancio emerge una situazione finanziaria soddisfacente con conti in ordine ma che al contempo consiglia sempre di continuare a tenere alta l'attenzione e la programmazione di un'azione futura sistematicamente razionale utile e giudiziosa non bisogna mollare la presa si deve insistere su un utilizzo prudente e produttivo del risorso non abbandonare mai la ricerca di nuove disponibilità tramite ad esempio il ricupero dell'evasione o cogliere nel contempo ogni opportunità che si presenti riguardante particolarmente una raccolta utile di contributo finanziamento anche esterno quindi è fatto obbligo dell'amministrazione quello di creare nuove risorse da destinare agli investimenti o spesi di rilevante interesse e di importanza senza alterare gli equilibri di bilancio a tal proposito si evince nella proposta inserita all'ordine del giorno testè approvata della variazione della variazione di bilancio approvata già appunto dicevo dalla giunta il 18 maggio 2021 che era nei pochi giorni del mio assessorato siamo riusciti a recuperare tante somme aggiuntive che ci permetteranno di ottenere nuovi importanti risultati e queste le abbiamo dette prima le abbiamo approvate in paniera particolare mi premeva i 400.000 euro che abbiamo imputato ai pali della luce e alla piscina e delle altre somme che abbiamo testè citato dobbiamo sistematicamente riaffermare il nostro deciso e convinto no allo spreco accompagnato dal sistematico utilizzo di risorse umane tecniche finanziarie nei limiti e in funzione delle effettive necessità e degli obiettivi individuati e con l'intento razionale e concreto di massimizzare la produttività a beneficio delle tante esigenze dei cittadini in continuamento il dato contabile che rappresenta il sintomo principale significativo della buona tenuta del bilancio comunale è quello della consistenza di cassa il fondo di cassa del nostro ente al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 9.139.199,25 si è testa quindi a livelli più che positivi mai raggiunti negli anni passati questo rappresenta la risultante di un'amministrazione sana e proficua ma i dati sufficientemente riportati negli allegati alla nostra proposta sulla difficoltà di incassare i crediti comunali soprattutto quelli residuali ci pongono arduo e produttivo impegno per garantire la stabilità futura vista come tenuta negli equilibri finanziari ed economici assolutamente indispensabili per garantire l'adeguata continuità dell'amministrazione scongelando ogni pericolo di riduzione qualitativa e quantitativa del precioso intervento comunale sul territorio della nostra meravigliosa città nel ringraziare infine tutti i responsabili dei servizi comunali in particolare le responsabili del settore finanziario e economico finanziario comunale col cui collaboro tutti i giorni persona che voglio spendere proprio il plauso per l'impegno operativo per il loro prezioso contributo e per il perfezionamento di tutte le pratiche che abbiamo aggiunzato all'ordine del giorno divido questo consesso all'approvazione delle nostre proposte perché esse porteranno riflessi concreti positivi immediati sulla gestione amministrativa del nostro ente a beneficio della collettività tutta e quindi saranno di profigo supporto in un momento sociale oltremodo delicato e altamente esigenti di buoni efficaci e tempestivi interventi grazie grazie assessore questo punto dichiaro aperta la discussione e do subito la parola al consigliere De Vecchis che ne ha fatto ne ha chiesto facoltà per il primo e c'era prima il consigliere De Vecchis sarò brevissimo se il consigliere De Vecchis mi dà la ok allora prego prego mi ricollego un attimo a quello che diceva l'avvocato Peppa assessore alle finanze che bisogna appunto essere oculati attenti nel reperimento di risorse anche esterne bisogna essere virtuosi per cui io chiedo magari a lui se benché subentrato dopo questo evento di Ittico 2019 se appunto si è informato su cosa sia realmente successo e su chi ha o non ha comunque adempiuto ai propri obbligi per portare a casa la cifra di 38.000 euro perché ecco parliamo magari di poco rispetto ai 31 milioni di crediti di dubbia esegibilità è comunque tutto fabbrodo perché se lasciamo a casa 38.000 50.000 e 20.000 comunque arriviamo ad una mala gestione perché poi questa cosa non è mai uscita fuori dai bilanci comunali nel senso questa cifra io capisco che era sempre scritta dal 2019 nel bilancio comunale però per un anno non è stata utilizzata perché fino a fatto dove è stata messa per cui c'è comunque nella risposta di prima non c'è la cifra che il comune ha perso cioè non mi è stato risposto lo ho calcolato io ve la dico alla fine è di 27.336 virgola 40 euro e poi insomma chiedo all'assessore Tassotti se sia giusto proporre comunque una cifra di 7.000 euro a un'associazione no profit e poi non elargirla cioè non mi sembra e non fare nulla in due anni non mi sembra un comportamento da tenere con le associazioni non profit insomma della nostra città che tanto si adoperano e fanno per anche il nostro comune grazie grazie consigliere Sanguigni e prego consigliere Revecchis sì buongiorno a tutti io in realtà non ho avuto modo di approfondire molto diciamo il documento che è stato portato i documenti che sono stati portati all'approvazione però sentito l'intervento dell'assessore in quota lega mi pare vero quota lega quota lega insomma che ad amministrazione scaduta no ci fa il pippone su quello che bisogna fare dopo che il bilancio che approviamo è l'esatta dimostrazione che questa amministrazione in cinque anni non ha fatto nulla insomma questo mi porta a dover intervenire anche se non ho approfondito i conti del bilancio minuziosamente elencati è un bilancio è un bilancio avete fatto un bilancio assessore avete fatto un bilancio viene fatto da 8800 comuni in Italia quasi tutti lo fanno regolarmente a scadenza del termine legale altrimenti subentra qui chi vi sollecita non l'avete fatto niente di particolare anzi quello che mi stupisce è che quello che avete fatto l'avete fatto nella più totale sostanziale continuità e giustificazione dell'amministrazione Gaspari quindi un assessore della Lega no? che fa le cose in totale continuità a giustificazione a copertura parla di disavanzo disavanzo tecnico lo impone la legge no? disavanzo tecnico assessore è la scoperta di un buco enorme no? come quello che avete scoperto in passato con i debiti fuori bilancio che se avessimo denunciato ad inizio amministrazione siete ad amministrazione scaduta non avete fatto niente mai detto niente no? avrebbero portato addirittura questo comune al dissesto cioè lei ha parlato oggi di un bilancio con disavanzo tecnico con un fondo svalutazione crediti cittadini udite udite di trentuno milioni di euro dovuto a che? al coronavirus alla pandemia ma scherziamo dovuto no? al mal governo di questo comune degli ultimi quindici anni no? voi avete tappato i buchi dell'amministrazione Gaspari no? e oggi parlate di disavanzo tecnico e questa è la politica a cui dobbiamo assistere a San Benedetto i partiti ideologicamente contrapposti che invece nel mangia-mangia che c'è stato perché se no non si spiega come si sono creati questi buchi no? si trovano a giustificarsi a vicenda e questo i cittadini lo devono capire devono capire che i partiti fanno parte di un gioco ormai sono talmente corrotti e fanno parte di un gioco che deve essere distrutto se questa nazione vuole ripartire dobbiamo ripartire dalla base dobbiamo ripartire dai cittadini da coloro che fanno gli interessi no? dei cittadini loro non di quelli che fanno gli interessi di coprirsi a vicenda per incapacità molto probabilmente per totale incapacità in questo comune molto probabilmente negli ultimi 15 anni ha comandato una burocrazia invece che chi doveva comandare cioè i rappresentanti eletti dal popolo e questa burocrazia oggi porta un conto di incapacità tale che insomma 31 milioni di euro di fondosvalutazione questo comune sono 20 anni che non fa nulla per riscuotere nulla e quindi non è che andiamo a tutelare gli svantaggiati di oggi del coronavirus ma andiamo a tutelare i furbetti dell'ultimo ventennio a scapito di tutti i cittadini e voi non avete fatto nulla oggi parlate di disavanzo tecnico e non denunciate 15 anni di bilancio allucinante dei vostri predecessori 10 anni di bilancio allucinante non dite niente politicamente un assessore della Lega di un sindaco del PD ma le prossime invece di cercare un candidato sindaco fate l'alleanza col PD state tutti in difficoltà fate l'alleanza col PD siete uguali siete uguali che cosa avete fatto assessore in questi cinque anni lei ha parlato dei risultati di questa amministrazione fantastici avete coperto i buchi l'unica cosa che avete fatto avete coperto i buchi siccome non siete stati capaci di investire di fare tutto quanto siete riusciti a coprire i buchi solo questo avete fatto e questo è di un'evidenza tale che i cittadini dovrebbero anche chi non ci capisce niente dovrebbe pensare se oggi c'è un fondo scoltazione crediti di 31 milioni di euro 31 milioni di euro assessore è il 60% del giro del comune di un anno un'azienda privata con queste perdite su crediti sarebbe fallita decenni fa e lei che rappresenta la lega vuol far credere ai cittadini che si tratta di un disavanzo tecnico che emerge dalla legge la legge ci ha interesse e poi emerge i disavanzi nei bilanci dei comuni il fine è quello facciamo emergere dei disavanzi ma che dice assessore assessore dica quello che è successo se l'ha capito se l'ha capito e non è un complice idiota di questo di questo se l'ha capito denunci quello che è successo in questo comune perché se no non siete credibili e i partiti devono essere spazzati via perché hanno portato una classe dirigente che non fa gli interessi dei cittadini fa gli interessi dei partiti che spesso si mettono d'accordo tra loro come nel caso di specie magari nei massimi livelli tanti di voi qui non lo sapete non lo capite ma del resto ci sono trasformazioni allucinanti da tutti contro siete una maggioranza fortissimi oggi ci avete un sacco di voti ci avete un vantaggio contro l'opposizione schiacciante potevate fare quello che volevate c'avete sedici diciassette voti contro sette n'avete fatto niente politicamente nessun messaggio non so avete rifatto forse a spese di cittadini il manto del Riviera delle Palme non lo so forse questo l'avete fatto non lo so ma mica voi i burocrati che lasciate comandare da 15 anni a discapito di questa città e dei cittadini siete una classica politica imbelle cinque anni di nulla totale e io dopo cinque anni che parlo con nulla mi sono stancato e per oggi la chiudo qui arrivederci grazie e buongiorno a tutti grazie consigliere Revecchis altri interventi prego consigliere Capriotti grazie grazie Presidente e buongiorno a tutti i colleghi e chi ci segue da casa beh gli interventi che mi hanno preceduto in parte hanno sottolineato quello che che vi volevo che vi volevo dire per cui mi diciamo mi aggancio a a queste cose e c'è c'è una una diciamo una certa assonanza effettivamente tra il mandato delle amministrazioni precedenti e questa amministrazione ma ve ne dico due per tutte e poi ve ne dico anche qualcosa che è diverso uno che l'amministrazione precedente terminò il mandato con la commissione d'inchiesta sullo stadio e il nostro sindaco perde il mandato con la stessa commissione d'inchiesta tra altri voti l'amministrazione precedente gli lasciò i lavori da terminare sul lungomare che erano lo stesso tipo di lavoro che ha iniziato il sindaco e questa amministrazione ci lascia ci lascia lo stesso i stessi lavori da terminare la lascia all'amministrazione che arriverà quindi quando Giorgio Levecchi si dice c'è una certa continuità i fatti lo dimostrano insomma oltre oltre che i motivi che diceva che diceva il dottor Devecchis di una cosa poi devo dire sono contento il comune non deve pagare l'anticipazione di cassa che l'amministrazione precedente ci lasciava insomma per cui quei 31 milioni ci permette di evitare finanziamenti bancari che sono gustosi per cui questo Giorgio bisogna bisogna dirlo per onore ed è vero poi andiamo ad analizzare i motivi che tu hai sottolineato bene quando parliamo quando parliamo di fondo svalutazione i crediti io vi volevo ricordare e lo ricordo all'assessore in modo particolare per questi ultimi mesi che ci accompagnerà e che ringrazio perché la sua la sua relazione è stata da assessore bravo non è stato da politico probabilmente l'avranno scritto i dirigenti io non lo so però diciamo che da chi volesse far capire come stanno le cose in comune è stato molto chiaro per cui grazie per questo assessore avvocato Peppa noi abbiamo preso questa amministrazione sempre nel discorso di continuità abbiamo preso un bilancio che vantava 22 milioni di crediti di difficile esigibilità in perfetta continuità ammucchiando 2 milioni all'anno questi crediti sono diventati 33 milioni oggi la legge e quindi non è stato un merito della politica il fatto di aver messo il bilancio diciamo in sicurezza ma la legge ci impone che questi crediti devono essere coperti per cui noi quindi non grazie a questa amministrazione ma grazie al governo centrale che ci ha imposto certi comportamenti oggi siamo costretti ad avere dei crediti un fondo svalutazione crediti di 31 milioni così come siamo costretti per legge non per merito quindi non vi mettete medaglie che non avete ma per legge i dirigenti appena il loro posto di lavoro il loro stipendio devono per forza accantonare dei soldi per il fondo contenzioso ecco allora che noi ci abbiamo grazie alla cattiva politica alla cattiva amministrazione come sottolineava il dottor Giorgio De Vecchis grazie alla cattiva amministrazione noi ci troviamo ad avere 34 milioni incassati che non possiamo spendere questi soldi però ci permettono di non ricorrere alle anticipazioni di cassa perché facciamo diciamo attingiamo da quei fondi vincolati che poi andiamo a rimpinguare durante l'anno quando incassiamo i soldi questo per sottolineare la cattiva amministrazione perché una buona amministrazione avrebbe affrontato il toro Pelle Gorna e cioè e cioè avrebbe si sarebbe indirizzata verso quei punti critici che gli permetteva poi di spendere i tanti soldi che la città di San Benedetto dà a questo comune noi siamo una città ricca tenetene conto quando abbiamo una città con oltre 4200 seconde abitazioni significa che San Benedetto incassa i citari insomma incassa soldi da altri comuni o anche dagli stessi san benedettesi che hanno una seconda abitazione ma 4200 ve lo dico che sono seconde abitazioni di non residenti quindi noi andiamo a prendere dei soldi da altre città per cui abbiamo abbiamo i soldi ora qual è il merito dell'amministrazione che deve riscuotere questi soldi ecco in questo senso c'è stata una perfetta continuità con la precedente cioè non si sono riscossi il 20% dei crediti e questa è cattiva amministrazione in ogni azienda un'azienda che non riscuote che non riscuote il 20% dei crediti come vi ha detto il dottor Revecchis fallisce noi no perché perché siamo il Comune e se non interrompiamo questo trend che purtroppo l'assessore Peppa non può interrompere perché dovremmo andare tutti a casa questi non prendetelo come un'aggressione politica ma è una realtà e ve lo dico per chi continuerà a presiedere queste queste poltrone che noi occupiamo oggi poltrone di consiglieri copulari per cui purtroppo l'avvocato Peppa non potrà cambiare questo indirizzo perché non c'è tempo però la prossima amministrazione dovrà affrontare subito questo problema e come si affronta questo problema? rafforzando quegli uffici che devono recuperare i crediti oppure stracciarli questi crediti perché non è detto che siano tutti recuperabili molti non saranno recuperabili tanti sono recuperabili se volete ve ne dico qualcuna di soldi recuperabili però bisogna intervenire attraverso quelle azioni scommode e impopolari che però un buon'amministrazione deve affrontare ad esempio ad esempio non dobbiamo arrivare a scadenza per emettere le ordinanze possiamo anticiparle come si fa giusto c'è la forza lavoro eccetera benissimo allora si rafforza quei servizi rafforzano quei servizi che fanno questo lavoro così come è stato fatto grazie a Dio recentemente e se l'avvocato Peppa ha potuto recuperare 400.000 euro dall'ufficio urbanistica è perché forse qualcuno negandolo al momento perché la politica impone questi comportamenti stupidi ha riconosciuto che forse all'ufficio urbanistica bisognava rafforzarlo e recuperare i tanti soldi che ci stavano se voi andate a prendere qualche interrogazione qualche mese fa la mia interrogazione vi chiedeva proprio questo voi avete detto che andava tutto bene però di fatto grazie all'arrivo di nuovo personale l'avvocato Peppa oggi ci dice che può recuperare 400.000 euro dall'ufficio urbanistica grazie avvocato e questo è uno degli uffici da potenziare perché sono quegli uffici che ci consentono di avere quella liquidità che il comune poi deve spendere non che deve mettere nel fondo svalutazione credit deve spendere per evitare di prendere 4 milioni in mutuo di 2 milioni per fare il lungomare o prendere in mutuo per fare gli asfalti che sono lavori di ordinaria amministrazione ripare il pavimento votare le piante rifare i marciapiedi rientra nell'ordinaria amministrazione non mettetevi medaglie che non sono medaglie si chiama ordinaria amministrazione cosa che non è invece ordinaria amministrazione per una società che gestisce il campo sportivo del comune è rifare il manto erboso quella è straordinaria amministrazione e allora lì bisogna intervenire o meglio bisognava intervenire quindi mi sono spresso un po' da punti spero di rientrarci visto che dovrebbe essere l'ultimo consiglio comunale che ci vede impegnati in modo un po' per i saluti un po' anche per 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 onorare questo questo servizio che abbiamo fatto a questa città quindi l'ufficio urbanistica dicevo è un ufficio che va potenziato e mi meraviglio che chi ha avuto la delega a questo ufficio l'abbia capito a fine mandato forse forse quando quei poveri veramente quei eroi a volte dei colleghi dell'ufficio urbanistica si trovavano ad affrontare le centinaia di pratiche e a salvare la faccia di questo comune io li ringrazio per tutto quello che hanno fatto quindi potenziare l'ufficio urbanistica l'altro ufficio da potenziare per per evitare di ritrovarci un fondo salutazione credit 31 milioni glielo ho già accennato è quello del recupero credit recupero credit va potenziato e accelerare le procedure le procedure che normalmente si fanno alla scadenza cioè quando è che perdiamo il credito dopo cinque anni allora dopo cinque anni prima della scadenza di cinque anni mettiamo l'ordinanza allora se noi anticipiamo il tutto probabilmente qualcosa di più recuperiamo anche perché dopo cinque anni le persone qualcuno parte per miglior vita come diceva qualcuno ma altri non se ne trovano più ed è sempre più complicato questa cosa allora una buona amministrazione deve far sì che gli uffici lavorino in tempi brevi avvocato Peppa mi dispiace che che purtroppo non ci avrà questo tempo stato certo che se fosse stato magari utilizzato prima forse questa fase potevamo lì bisogna potenziare l'ufficio perché dei bravi impiegati e lei li ha conosciuti in questi mesi in questi giorni ci stanno sono bravissimi qualcuno si fermano si firmano sotto la sua faccia io per quello che leggo nel nome che la rappresenta in questo momento l'altro punto che l'ufficio che dobbiamo potenziare gliel'ha accennato il consigliere Sandini noi abbiamo perso 37 mila euro no 38 mila vabbè di finanziamento regionale che si vanno a sommare al finanziamento regionale perso se non ricorda Pappa Fish se non ricorda una delle mie prime interrogazioni me ne avete detto di tutti i colori perché i bambini non mangiavano il pesce nelle scuole grazie a Dio l'anno dopo lo abbiamo intercettato ma il primo l'abbiamo perso perché ci arrivo poi al perché così rispondo un pochetto anche a a Sanguini se qualcuno di voi poi lo farà meglio di me lo ringrazio ve lo ricordate il finanziamento per il porto turistico l'assessore Olivieri si scatenò con una serie di improperi o di parole a caso in una delle mie interrogazioni oltre circa centomila euro persi persi noi abbiamo un finanziamento ancora in corso e speriamo di non perdere di un milione e settecentomila euro del fondale del porto di San Benedetto caro sindaco oggi comandati in regione quel porto vanno tolte le sabbie quelle altrimenti perdiamo pure questo finanziamento spero che la prossima amministrazione visto che siamo in scadenza allora prima c'erano quelli di sinistra cattive in regione adesso ci stanno quelli bravi quei soldi però stanno fermi lì e i pescatori ogni tanto se ne incaglia qualcuno io ve lo ricordo è il mio dovere farlo no? spero col sorriso perché alla fine l'importante è dirci le cose come stanno quindi potenziare e individuare chi si deve occupare di questi fondi voi avete assunto un un segretario del capogabinetto tra cui tra le funzioni della delibera di giunta da voi approvate era quello del recupero dell'incercettazione dei fondi lo signore si è andato via e noi abbiamo intercettato niente abbiamo intercettato quello quello che c'è che praticamente c'è cascato addosso grazie grazie io ringrazio per la scuola la scuola ferri che la regione ha finanziato grazie che abbiamo proprio rischiato per le penne adesso abbiamo intercettato quello proprio che è nato al porto turistico di quelle di quelle mega case casette che ne so che veramente si fa fatica a vederle abbiamo intercettato quello ma dovete finirle entro giugno perché se no rischiamo quello che tocca pagarle caro Andrea abbiamo intercettato e qui si vede la piccolezza della politica i soldi che il governo centrale ci ha destinato grazie ad esso abbiamo evitato il pagamento degli arretrati della Tari ma si attento perché bisogna intercettarli tutti perché se no rischiamo di perderne una parte e comincio a intravedere la preoccupazione di chi di chi poi è a conoscenza di questi fondi che non li spende di non spenderli quindi una parte l'abbiamo intercettati per la Tari grazie grazie a chi ha avuto questa buona idea ricordiamoci che però ce ne sono altri da spendere e quindi bisogna alzare le antenne e coprire e di utilizzare tutti questi conti ma da questo comune non ho sentito mai una parola di elogio verso il governo centrale fatevi l'esame di coscienza su queste cose perché questa è la piccolezza della politica perché quando ci sta la critica tutti bravi ma quando ci sta la critica l'opposizione ma quando ci sta la di bravo sono pochi pochi sono stati in grado di farlo adesso arrivo a qualche ringraziamento che io mi sento di fare primo fra tutti e questo lo devo ringraziare il sindaco che ha capito subito l'importanza della modifica di quel regolamento Tari sulle seconde case quando glielo ho proposto ha capito a volo questo ci permette cari colleghi di evitare per il momento per il momento l'aumento della Tari dello scorso anno perché delle 4200 case seconde case di proprietà di non residenti che prima pagavano la Tari sulla base di una persona perché non dichiaravano lo stato di famiglia a differenza di quello che facevano i sanberi dettesi oggi lo dichiarano oltre 2000 domande sono arrivate al comune e hanno dichiarato il nucleo familiare che minimo è di 1 cioè quello che pagavano l'anno scorso molti sono di 3 che comunque è meno rispetto ai 4 che pagheranno se non dichiarano il nucleo familiare questo ci permetterà di rimodulare la Tari di rimodulare la Tari in modo tale che le prime due rate ci possiamo permettere di non aumentarle rispetto allo scorso anno questo significa poi la nuova amministrazione si adeguerà con la terza tariffa ma di questi esempi ce ne sono tantissimi una parte dell'accennato pepa una parte l'avvocato pepa una parte dell'accennato io di questi esempi in un'amministrazione ricca come quella di San Benedetto ricca come quella di San Benedetto significa avere disponibilità per i cittadini avere tante risorse significa investire significa che che non è più possibile vede tutta quest'erba in giro e poi rincorrerla continuamente con questi poveri giardinieri altro settore carente a un certo punto se non abbiamo i giardinieri cosa che è abbastanza comune ragazzi affidiamoci ad altri ma non è possibile vede tutta sterba sui marciapiedi in questo periodo a partire dalla Bambinopoli spero spero e ci arrivo poi sulla Bambinopoli e grazie a quella modifica del regolamento che ancora una volta il sindaco ha capito subito e lo ringrazio noi abbiamo permesso anche di fare un atto di giustizia nei confronti di chi la tari dei nostri cittadini la paga in un'altra città sono molto meno le domande però siate sicuri che queste persone hanno apprezzato quest'atto di civiltà tornando alle risorse le tante risorse che consigliere Capriotti mi scusi la invito a concludere perché è praticamente già terminato ne lascio tre minuti allora gli do gli ultimi suggerimenti grazie per quello che potete fare in questa amministrazione e poi rimarrà almeno agli atti per la futura amministrazione dobbiamo incidere sui soldi che noi dobbiamo recuperare e noi li possiamo recuperare in diversi settori e grazie al governo centrale che ci ha obbligato ad applicare dei regolamenti che da tempo la nostra città richiedeva quello della tassazione unica quella delle tariffe quello il regolamento che noi dobbiamo andare ad applicare è quello sui beni demaniali noi abbiamo tantissimi beni demaniali ad esempio quello che è stato fatto per l'ex Pinobar che è stato un appalto questo dovrà essere rimodulato su tutte le aree demaniali e dovrà essere regolamentato perché sono soldi che il comune può introitare può recuperare per cui per cui sindaco dovrà potenziare guardi io le ho detto tre uffici forse sarà quattro forse sarà cinque io non lo so però il discorso del patrimonio comunale è un discorso da seguire da tutelare non possiamo permetterci che ci sono delle aree a forte interesse commerciale che non vengono utilizzate le dico appunto il bambinopoli è la più evidente agli occhi di tutti noi visto che il presidente mi ha richiamato io vado alla conclusione con un auspicio allora vabbè vado con ringrazio io nel corso di questi anni sono stato molto attivo in consiglio comunale ho presentato diverse internazioni molte pur negandome al momento poi ho visto che l'avete fatta parlo di via Marradi parlo parlo del parlo della mozione sulla sicurezza sitaco ho letto questi giorni che avete deciso finalmente che i controlli vanno fatti dopo le due di notte cioè quando vanno fatti e quando succedeva il non accettabile ecco riprenda bene questa mozione che mi avete negato che ci avete negato a tutta la minoranza a suo tempo lì c'era la chiave per evitare o meglio per far sì che i cittadini del centro possano riposare alla notte una era proprio questa che sta applicando che applicherà quest'estate che riguarda l'ampliamento dei controlli dopo le due di notte quindi fino alle sei tenga presente che ci sono diverse attività che stanno aperte tutta la notte tutta la notte e lei disse in una forse in un consiglio che il diritto a riposo è un diritto oltre che una legge penale di evitare schiamazzi notturni ecco se lei recupera quella missione quella mozione oggi ha gli strumenti legali per poter ridare riposo a tanti cittadini e soprattutto per riqualificare il centro in modo tale che sia più vivibile e si alzi la qualità della vita dei cittadini sanvenerettesi che spesso ci riempiamo la bocca io avevo tantissime cose da dirvi il presidente mi richiama ringrazio guardi una delle mie interequazioni una delle mie prime riguardava la scuola Francesco Petrarca dove oggi c'è la sede della Croce Verde mi disse ma no non si può fare oggi si può fare si è fatta mi sta bene via Marradi gliel'avevo segnalata con un'interpellanza l'asfalto l'avete fatto ecco riprenda la mozione sulla movina che in parte farà quest'estate grazie e se poi la legge bene vedrà che ci sono gli strumenti per poter incidere sulla sicurezza perché le telecamere caro sindaco ci permettono di recuperare le prove dopo che il fatto è avvenuto la mozione che io l'avevo impostato che noi l'avevamo impostato le permette di prevenire prevenire le situazioni di violenza di inciviltà di cui il centro è pieno grazie all'applicazione della legge che a suo tempo fece il ministro Militi e con questo vi ringrazio dell'attenzione spero di non avervi annoiato se poi mi consentirà una replica perché vedo che il ballatore è già attivissimo è già pronto il ballatore però gliel'ha duccio non l'ha fatto l'amministrazione precedente non l'ha approvata con le casette grazie grazie consigliere Capriotti prego consigliere ballatore ciao Torino mi è anticipato vedi no vabbè io ti volevo chiarire un attimino qualche cosa innanzitutto c'è un po' di confusione per quanto riguarda il dragaggio perché il porto è dell'autorità portuale quindi di quei finanziamenti a cui ti riferisci ci dovrebbe pensare l'autorità portuale hai citato anche la regione che tranne che non parlo della darsena turistica che lì è vero governa la regione per quanto riguarda il dragaggio la regione influisce minimamente solo sulla eventuale decisione di individuare un sito di collocazione delle sabbie poi veniamo alla piccola pesca è vero tu mister D non c'era l'aggiunta precedente allora tu l'hai definito una schifezza quei magazzini lo potevi dire all'ex assessore tuo compagno di partito quando hanno fatto il piano regolatore del porto che hanno deciso di mettere uno proprio schifezza no uno proprio vabbè perché il posto lì che poi può piacere non può piacere io sento in giro tutto questo sdegno perché ha coperto uno scorcio ha coperto uno scorcio dove si vedeva solo la baracchetta del circolo nautico e le attrezzature buttate lì dei marinai io sono convinto che fra tre anni quello diventerà lo scorcio più bello di San Benedetto perché bisogna parlare a lavori finiti fermo restando che la location fu stabilita nel 2014 a margine della stesura del piano regolatore del porto e dall'ex sindaco Caspari e dall'ex sessore quando sono stato sono stato sui giornali accusato di non aver capito che il progetto Presidente il microfono Giovanni scusate no era entrato il sindaco scusate quando sono stato accusato di non aver capito che il progetto è stato portato in giunta dalla mia amministrazione è stata un'arrampicata sugli specchi unti da parte dei tuoi colleghi di partito perché io lo so benissimo che il progetto in giunta ce l'ha portata la mia amministrazione perché loro non c'erano arrivati prima l'assessore del tuo partito aveva posta perché non era riuscito a portare il progetto in giunta ha perso più di 200 mila euro di finanziamenti noi ne abbiamo presi 800 mila insieme all'assessore Olivieri 400 per il mercato ittico e 400 per la piccola pesca ne abbiamo presi ulteriori 250 per il mercato ittico per le sostituzioni di linea d'asta quindi io l'ho capito che in giunta c'è arrivato tramite la mia amministrazione perché voi non c'eravate arrivati Gaspari non c'era arrivato poi fermo restando che ribadisco il lavoro verrà apprezzato successivamente e ci sono state mille motivazioni per la scelta di quel posto che ripeto può piacere non può piacere era l'unico posto che garantiva di mantenere gli spazi tali per garantire il passaggio del travel lift e non inficiare la circolazione su via Marina Italia e non ultimo c'è stata anche una forte volontà della capitaneria all'epoca di mettere il villaggio lì per chiudere quel barco perché nell'obiettivo della capitaneria del piano regolatore del porto il porto doveva rimanere un'area circoscritta e quindi si è potuto anche chiudere e circoscrivere l'area realizzando quelle caselle comunque giusto basta così ciao Tonino ti ringrazio è sempre un piacere scontrarmi con te buona giornata a tutti grazie consigliere Ballatore prego consigliere Chiodi grazie presidente io ho scritto tanto un intervento non so forse però inizio dalla fine diciamo sono cinque anni che la minoranza ripete ripete in fotocopia sempre le stesse cose questo significa che non si ha nulla da dire o c'è poco da dire su quello che questa amministrazione in cinque anni in cinque anni ha fatto è vero io sottolino anch'io che ci sono stati malgoverni prima di questa amministrazione più di malgoverni che hanno portato effettivamente no eh con i famosi residui attivi con tutte e tutte queste cose eh finanza veramente inventata bilanci noi siamo stati bravi questa amministrazione è stata brava nel riportare in sesto in sesto l'ente l'ente eh comunale questo non è poco perché non solo è stato fatto questo ma è alla alla luce eh è alla vista di tutti sanbenedettesi quello che sta succedendo quello che è successo gli interventi eh sul lungomare eh noi non siamo in continuità perché facciamo anche noi un'inchiesta sullo stadio o perché i lavori sul lungomare i lavori sul lungomare non erano nemmeno programmati da questa amministrazione non erano stati nemmeno eh pensati in campagna elettorale invece la capacità di questa amministrazione del sindaco Piundi ha portato a far chiudere finalmente un discorso eh sul lungomare diciamo più bello quanto meno diciamo del centro Italia quanto meno e questo eh si va ad aggiungere a tutto quello che è stato fatto eh quello che ci siamo ritrovati che non era stato fatto dall'amministrazione Gaspari e come ha sottolineato anche l'amico Mario Ballatore questa è anche una capacità no di questa amministrazione perché un conto è avere qualche idea un conto è avere le idee e realizzarle eh il ballarin nel lungomare eh la pista ciclabile oggi lungo l'Alpula che era abbiamo dovuto anche lì subire eh stop a go go perché eh molti enti eh a livello anche nazionale hanno fantasie da vendere e noi siamo stati duri e perseveranti e eh finalmente abbiamo eh veramente portato avanti anche quel lavoro che comincia a vedersi adesso proprio in questi giorni io credo che mh non è giusto dire eh che noi dovevamo denunciare dovevamo fare noi ci siamo accorciati le maniche questa amministrazione si è accorciata le maniche ha capito dove c'erano deficienze il bilancio dove era deficiente e eh ha portato avanti in continuità qui non ci sono né accordi sotto banco né eh azioni che ci arrivano non so da dove questa è la capacità di un'amministrazione di portare avanti eh l'ente comunale eh un'amministrazione eletta per svolgere quello che l'amministrazione più un dia fatto e sta facendo questo si chiede perché azioni improprie azioni avventate azioni molte volte no eh anche di principio alla fine vengono pagate pagate sempre dai cittadini io non voglio eh non poter sottolineare il fatto che eh questa amministrazione è stata molto fortunata infatti si è beccato tutto il periodo eh del terremoto e siamo stati additati a livello nazionale anche per le azioni portate avanti in quei brutti periodi e ci siamo beccati fino ad oggi credo almeno 18 mesi eh di covid nonostante tutto questa amministrazione è stata capace di portare avanti un'azione amministrativa forte coerente capace e alla vista di tutti eh siamo stati sempre noi io mi riferisco in particolare all'assessorato eh con cui ho collaborato molto attivamente eh l'assessorato dell'amico Filippo Olivieri che ringrazio per quanto ha fatto e per quanto eh mi ha permesso anche a me di fare al suo fianco per cui eh tutta eh la comunità economica sanbenedettese le attività produttive sanbenedettese hanno giovato di queste nostre azioni di questa nostra vicinanza e anche qui i risultati si sono visti abbiamo sempre messo in campo di concerto con l'assessorato al turismo con l'assessorato eh comunque eh eh alla cultura tutta una serie di azioni nell'arco degli anni in cui eh siamo siamo stati al governo di questa città volgiamo al termine speriamo di tornarci dicevo abbiamo messo in gambo tutte azioni atte e forti per rilanciare per riportare sanbenedetto del trondo consigliere Giodi non si sente ecco adesso sì grazie avevamo avevamo perso avevamo perso è stato detto è sottolineato molto e più volte il discorso del recupero noi anche questo abbiamo saputo fare anche qui abbiamo saputo incidere perché è pur vero che eh abbiamo trovato anche su questo fronte una situazione molto disastrata ma basta chiedere poi informazioni alla multiservizi tanto per dire proprio che in forza del del canone unico che è venuto avanti dall'inizio di questa di questo anno di questo nuovo anno tutto quello che questa amministrazione ha fatto e sta facendo e ci sono effettivamente eh i risultati abbiamo i risultati perché? perché la perseveranza paga eh l'urbanistica l'urbanistica è un qualcosa che è stata attenzionata da tempo abbiamo più volte intervenuto siamo più volte intervenuti in in anche in quel versante e anche qui si è visto un cambio di passo reale questo è dovuto non alla burocrazia che sommerge l'amministrazione ma al buon comportamento dell'amministrazione che sa coinvolgere nel miglior dei modi anche la burocrazia comunale e io in questo senso mi sento di ringraziare tutti quei dirigenti tutti eh comunque quei collaboratori eh con cui noi in questi anni abbiamo avuto modo di rapportarci di lavorarci e comunque di ottenere gli ottimi e buoni risultati questo non è un qualcosa di poco conto perché ripeto eh mettersi in cammino con un fardello come quello che abbiamo trovato come quello che l'amministrazione più india ha trovato eh non è non è una cosa non è una cosa semplice eppur andando in disavanzo tecnico che è un disavanzo che però ci permette comunque di operare nel miglior nel miglior modo possibile abbiamo iniziato un risanamento forte dell'ente abbiamo visto comunque eh che eh il eh disavanzo tecnico siamo stati anche in grado e capaci di ridurlo nell'ultimo anno da otto e rotti milioni a a soltanto sei eh e e e pochi centinaia di migliaia di euro in più eh questo è un fatto molto molto positivo eh non andare non andare in anticipazione di cassa signori eh in diversi tecnicamente capiscono molto bene pure quello che significa e eh quanto quando risparmio vi è stato e vi è sulle spalle invece del contribuente dei nostri cittadini è importante questo e guarda caso però nonostante che da un versante siamo in grado di gestire bene questa cosa dall'altro versante quello delle opere pubbliche questa amministrazione ripeto ha continuato e continua a produrre a Iosa eh situazioni che lasceranno presagire una San Benedetto eh nuova eh per il futuro sempre più proiettata verso il settore turistico che è la nostra forse maggiore prerogativa ma noi eh ripeto l'ho detto più volte anche in questi anni noi siamo molto baricentrici siamo tornati a svolgere un ruolo fondamentale tra Angona e Pescara per ruolo comunque di città eh attrazione che si era che si era perso negli anni che hanno preceduto questa amministrazione io credo che si potrebbe continuare a parlare all'infinito perché eh parlare di di bilanci eh quando si va a fare un rendiconto specialmente di un bilancio ma anche un bilancio previsionale eh si toccano tutti i punti eh comunque che eh impegnano un'amministrazione comunale io credo che questa amministrazione comunale abbia dato risposte su tutti i fronti dal settore turistico al settore dei lavori pubblici eh non parliamo poi delle politiche sociali che ci hanno sempre visto eh sostenere la parte più debole della nostra città eh questo è un merito questo credo che sia stata anche una grossa capacità del sindaco Piundi che ha eh trovato il modo di esprimersi al meglio e far esprimere al meglio i suoi collaboratori sia gli assessori che comunque i consiglieri io di questo lo ringrazio e ringrazio anche voi per questi ormai cinque anni passati insieme che pur su eh molte volte fronti diversi però ci hanno visto battagliare in maniera comunque leale aperta e democratica grazie grazie consigliere Chiodi prego consigliere Balloni grazie presidente beh siamo partiti dal pippone dell'assessore poi c'è il pippone del consigliere d'opposizione e il pippone del capogruppo sì forse è vero l'assessore nella sua eh insomma è un po' empatizzato insomma forse anche sul fatto che da poco ha incaricato questo ruolo e quindi ha voluto ecco addolcire molto la situazione però non mi sembra che la situazione la contestazione possa essere quella di sparacchiare a destra manca sui partiti sulla costituzione sulle loci poteri forti sulle incapacità gestionali abbiamo alcuni punti fermi per vent'anni c'è stato un problema quindi evidentemente precedente nella nostra amministrazione questi problemi ovviamente si ricavano su chi subentra quindi voglio dire è chiaro che non si possa immaginare che sia tutto un problema di serenità che si possa affrontare bisogna partire da ciò che ha lasciato perché un'amministrazione è una continuità non è che c'è un confine per cui si riparte si resetta tutto quando subendo una nuova amministrazione tutto ciò che è stato fatto prima lo buttiamo via no bisogna entrare in quel canale cercare di rimediare di affrontarlo e di risistemare la situazione ora sono stati 15 anni di mala gestione non è pensabile che in qualche anno non arrivi il sistema tutto è chiaro che c'è questa continuità tra l'altro è relacionato anche il collega Chiodi non è che qui si possono sparare denunce perché riteniamo che qualcuno abbia fatto gli illeciti ci sarà stata una gestione fatta male evidentemente se il bilancio delle problematiche però devo dire che in tutti questi anni c'è un collegio di revisori che alla fine mi pare approvato allora se questi bilanci vengono approvati evidentemente dal punto di vista della legittimità lo so non ci sono quindi situazioni per poter portare davanti credo alla giustizia tribunalizza come uno è stato qui buttato dentro non voglio fare poi neanche l'elenco delle cose fatte eccetera perché poi c'è il consigliere Capiotti che mi ricorda anche cosa che a Bessubbolo ci ringrazia ha ringraziato il sindaco lui lo dice perché ha fatto ciò che ci suggeriva e lo ringraziamo allora anche noi questa parte però abbiamo quindi recuperato le situazioni ci sono dei problemi del pubblico dei crediti lui stesso poi dice però certo non tutti i tei sono recuperati allora evidentemente le situazioni devono essere affrontate a una certa obiettività e serietà delle impostazioni credo che anche il collega Baradona abbia risposto ampiamente anche sul punto di vista di questi famosi problemi sul villaggio turistico e quant'altro sui soldi che sono stati recuperati quindi voglio dire si possono poi fare delle disquisizioni su alcuni atteggiamenti ed altri ma questo è normale è evidente però voglio dire a colleghi Capriotti non è che possiamo ringraziare il governo come lui dice se poi l'Italia è una situazione disastrata se poi quel governo è saltato se poi si è dovuto rivolgere a un banchiere internazionale per poter gestire qualcosa per trovare una quadra della situazione ci sono quindi qualche qualcosa di bene lo fanno tutti Antonio non è questo il problema è che chiaramente si trovano in una situazione di questo tipo evidentemente è stato fatto molto poco e questo poco allora potrei dire come viene detto a questa amministrazione è dovuto più all'aspetto amministrativo burocratico che alla capacità politica di chi gestisce no è chiaro che la politica e la burocrazia vanno di pari passo vanno insieme non è che la politica può modificare norme e quindi quando sono fatti in maniera regolare il bene dell'amministrazione pubblica e amministrativa è quando sono fatte male a colpa della politica cioè chiaramente un parallelismo che va fatto e credo che questa amministrazione ha dimostrato di saper avere questo rapporto le normative che vengono portate vengono approvate oggi troviamo una situazione che sicuramente è ben migliore di quella che abbiamo trovato e di quella che lasceremo per il resto credo che sia inutile adesso che ripeto fare l'elenco di alcune circostanze le critiche vanno fatte le prendiamo capisco anche faccio il professore di avvocato che di volte sono doverose ma io quando difendo una persona perché è colpevole mica di congiulci è colpevole con danni dovrò di qualcosa non è che giulci mi crede però fa parte della mia situazione del mio dovere di farlo così capisco che alcuni membri dell'opposione non possono che dire qualcosa e soprattutto quando ci si sbraga è perché ciò che si dice è talmente poco di valore che siamo costretti ad empatizzare alzare i toni a sparare di qua di là a creare quella situazione per cui diciamo però c'ha ragione come urla come dice come fa come contesta la situazione è molto più complessa ogni amministratore maggioranza opposizione deve avere una certa responsabilità quando parla perché si riferisce a cittadini si riferisce alla città e se diciamo delle cose tanto per dire facciamo una pessima pubblicità a noi stessi alla politica in generale ricordo tra l'altro i partiti sono anche visti alla costituzione quindi non è qualcosa di negativo bisogna forse agire meglio anche all'interno questo è un altro ragionamento ovviamente molto più complesso e forse noi qui esuliamo dal convito per cui stiamo qui oggi mi associo un pochino anche io ai saluti e che non so se questo sarà forse l'ultimo consiglio in cui effettivamente abbiamo modo di vederci scontrarci salutarci o di condividere le situazioni io credo che abbiamo fatto un bel percorso percorso importante anche con un confronto con uno scontro a volte forte con l'opposizione alcune volte invece abbiamo avuto delle scelte anche all'unanimità di alcune situazioni alcune emozioni anche sulla commissione stadio come se fosse un evento non una colpa di qualcosa stiamo cercando di verificare ciò che è una situazione importante per la città la san benetese lo stadio quindi un immobile di proprietà importante di valore e come abbiamo visto abbiamo fatto l'unanimità è stato l'unanimità in consiglio comunale abbiamo votato l'unanimità il presidente cioè su alcune situazioni la responsabilità c'è stata questa è la responsabilità che chieda a tutti poi ognuno ha fatto la sua parte ok però evitiamo di utilizzare dei sotterfugio gli artifici per far credere ciò che non è che tutto è migliorabile è talmente banale dirlo che francamente io non lo direi se fossi all'opposizione cioè non è che con stata l'opposizione improvviso ho detto è migliorabile è chiaro che è migliorabile diciamo ciò che è ciò che non va sono state le situazioni gravi per il resto ci limitiamo a far parte del ruolo che abbiamo e rivestiamo e cerchiamo di lavorare insieme comunque nel rispetto del bene della città e dei cittadini grazie grazie consigliere Balloni consigliere di Francesco prego grazie presidente buongiorno a tutti alcune considerazioni e valutazioni sul piano politico rispetto al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario che credo sia importante perché è un passaggio politico e amministrativo che offre l'opportunità di poter fare delle 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 riflessioni e delle considerazioni noi riteniamo che questo percorso che ormai volge al termine se non sarà l'ultimo consiglio comunale sicuramente sarà il penultimo perché ormai i tempi i tempi sono stretti rispetto alla prossima scadenza delle elezioni amministrative se non ci fosse stata la proroga già ci sarebbero state le elezioni se non ricordo male nel 2016 votammo il 5 giugno e e quindi ritengo che sicuramente questa amministrazione poteva fare di più per quelle che erano le premesse per quelli che erano i propositi per quelle che erano diciamo le progettualità che erano state rappresentate nei primi anni ci siamo trovati con gli atti di programmazione di bilancio perché poi ci tengo sempre a sottolineare che il bilancio è il progetto politico di un'amministrazione quindi contiene le scelte contiene i programmi gli obiettivi che si prefigge un'amministrazione comunale e il consultivo ci dà modo anche di verificare ciò che è stato fatto rispetto poi a quelli che sono stati punti programmatici inseriti all'interno di questo progetto e perché dico che si poteva fare di più perché ritengo che certamente rispetto a questioni tipo mi riferisco ad esempio alle opere pubbliche importanti quali la piscina attesa da tutta la città e di cui penso che noi tutti abbiamo a cuore e quindi c'è stato sempre una diciamo una sollecitazione rispetto a una un'individuazione della soluzione per per poter ridare alla città un impianto riqualificato nuovo sicuro e purtroppo questo ad oggi al netto ecco di questo importante intervento che poi va evidenziato anche ciò che è importante quindi oggi ci sono anche le risorse per un intervento di ristrutturazione e questo è importante grazie anche al fatto che incamerando gli oneri di urbanizzazione si sono reperite le risorse per poter fronteggiare questa esigenza lo stesso vale per i pari ad esempio della pubblica illuminazione e se ripercorriamo un po' i passaggi del precedente consiglio comunale un po' tutti abbiamo rimarcato la necessità che ci dovesse essere un'implementazione di risorse e di personale per il settore urbanistica per le tante richieste di accesso agli atti e mi riferisco al super bonus di cui poi vorrei dire anche qualcosa e soprattutto per poi per le pratiche ordinarie ecco aver potenziato l'ufficio e quel servizio ha consentito di reperire fondi che oggi ci consentono intanto di fare degli interventi importanti questo è un aspetto che va sicuramente valorizzato perché ci dà modo anche di poter intraprendere un percorso un primo step che poi io mi auguro la prossima amministrazione possa portare a compimento con riferimento alla piscina un po' di amarezza c'è per la piazza di piazza Montebello perché un po' tutti un po' anche il quartiere un po' la città la città insomma piazza Montebello è un po' il cuore pulsante della nostra città sicuramente necessitava ecco prima che terminasse il mandato amministrativo di un'opera di riqualificazione che purtroppo verrà io mi auguro realizzata nel prossimo mandato amministrativo anche piazza Colbe ecco questi sono i tre punti che io ogni volta nei vari consigli ho cercato in qualche modo di sottolineare perché ritengo che insomma la politica debba poi risolvere i problemi anche l'edificio di piazza Colbe che è rimasto in una condizione sicuramente precaria e quindi anche qui poi noi se non ricordo male facemmo anche un paio di commissioni consigliari specifiche su questo argomento bisognerebbe trovare una soluzione bisognerebbe agire e capire come risolvere questo problema di un edificio che è rimasto in quelle condizioni e che comunque comporta anche tutta una serie di problematiche per quanto concerne ovviamente il periodo è ovvio che ci siamo trovati nella contingenza di una situazione che vede una diciamo una fase di emergenza sanitaria ed economica quindi è ovvio che tutti gli enti pubblici hanno sofferto di questa di questa pandemia che ha avuto delle ripercussioni pesantissime sul piano economico soprattutto delle attività commerciali del tessuto produttivo delle famiglie e gli enti nelle loro difficoltà oggi iniziano arrivare anche i ristori io sono stato critico anche nei confronti del governo sono uscito anche pubblicamente quando dissi che gli enti pubblici dovevano essere ristorati rispetto ovviamente mancati introiti perché c'era una condizione di difficoltà quindi di sospensione dei tributi o di riduzione poi su questo apro una parentesi perché la ritengo importante sulla questione relativa ai tributi locali pertanto che cosa si poteva fare si poteva sicuramente creare un provvedimento noi abbiamo proposto una mozione che conteneva delle misure specifiche che potessero sicuramente andare incontro alle tante domande che ci sono state dei buoni spesa che non sono state soddisfatte interamente c'è una condizione basta farsi un giro in centro parlare con i commercianti e non solo perché poi non è che il problema riguarda solo e esclusivamente le attività commerciali ma riguarda anche le imprese riguarda tutto il comparto produttivo quindi è una catena è un effetto domino che si genera quando c'è una crisi così pesante sul piano economico e quindi che cosa poteva fare il comune sicuramente cercare di andare incontro a quelle situazioni che potevano poi essere riscontrate ad esempio con i crolli di fatturato che ci sono state in tutte le attività commerciali io credo che basta confrontarsi e dialogare con le associazioni di categoria ma con gli stessi commercianti con i quali io personalmente ne ho parlato con tanti amici che hanno attività commerciali insomma purtroppo la situazione è drammatica non è che è passata non è che questa situazione adesso non deve essere più tenuta in considerazione perché stiamo in una fase dal punto di vista sanitario un po' in discesa un po' in discesa poi il futuro è tutto incerto quindi occorrono provvedimenti a mio avviso strutturati mi riferisco al fatto ecco ad esempio dei fondi che potevano essere investiti per sostenere in parte gli affitti di queste attività commerciali i buoni spesa per le famiglie la sospensione lo continuo a ripetere il fatto di prorogare i tributi locali o quello che accennavo prima e che riprendo adesso è importante perché non è che chi non ha lavorato prima oggi ha le risorse per poter oggi pagare le tasse io vedo una situazione di grande difficoltà ovunque e quindi dal mio punto di vista ci doveva essere un diciamo un intervento e ripeto noi abbiamo avuto un approccio costruttivo e voglio continuare perché questa è una linea che ho sempre diciamo sostenuto dal punto di vista dell'azione politica di cercare di fare non solo quell'opposizione che è giusto fare sulle questioni che riteniamo negative e che non condividiamo ma è importante anche fare delle proposte noi l'abbiamo fatto abbiamo avuto sempre una impostazione propositiva e di ascolto di confronto abbiamo cercato di mettere sul tavolo qualche idea qualche proposta concreta e quindi ecco su questo io credo che ecco a mio avviso c'è ancora il tempo per implementare le risorse e cercare di andare incontro alle famiglie in difficoltà alle imprese alle attività commerciali al fatto ecco è stato giusto il provvedimento sull'occupazione del suolo pubblico che ho condiviso anche l'altra volta ecco sono stati fatti degli interventi che erano necessari e quindi va riconosciuto questo ma bisogna cercare di guardare oltre e arginare diverse situazioni anzi molte situazioni di difficoltà delle imprese e quindi delle attività commerciali noi facemmo questa mozione questo pacchetto emergenza covid che ovviamente è stato recepito in parte e mi auguro che si possa credo che ci siano insomma anche perché questa è una credo che è una problematica che non è che finisce oggi e quindi in progress bisognerà intervenire di volta in volta e cercare di capire come come poter aiutare il tessuto economico della città per quanto riguarda invece il punto relativo al settore urbanistica di cui prima accennavo la questione del potenziamento dei servizi quindi dell'ufficio credo che sia sia stato sicuramente importante aver potenziato quindi aver potenziato l'ufficio credo che perché questo mi viene segnalato poi se qualcuno insomma nell'intervento poi o negli interventi successivi se si può chiarire questo aspetto cioè le tante richieste di accesso agli atti perché a me giungono molte segnalazioni che ancora ci sono dei problemi qual è lo stato dell'arte ecco se posso insomma avere anche una risposta in merito a questa problematica che mi è stata sollevata insomma da da parecchie da parecchie parti è venuta fuori questa diciamo questa criticità e quindi ritengo che sarebbe anche opportuno facendo un'analisi approfondita anche valutare di ulteriormente implementare risorse su questo sull'ufficio sul settore urbanistica perché intanto è una grande occasione credo per rinnovare il patrimonio edilizio cittadino perché si va a migliorare l'efficienza energetica la sicurezza sismica ed è un'opportunità anche per le imprese per i tecnici per le imprese per tutto l'indotto anche per uscire da una crisi che c'era già da anni e che il covid ha aggravato oltre a questo le pratiche ordinarie e quindi tutto ciò che l'abbiamo visto in questo passaggio in questo atto di programmazione quando sia importante introitare gli oneri di urbanizzazione che ci consentono poi di reinvestire in interventi che sono di significativa rilevanza ecco io su questo credo che si debba ecco alzare l'asticella dell'attenzione e dare un maggiore manforte e sostegno al settore perché si viaggia su binari che credo siano fondamentali perché il fatto di ripeto di smaltire le pratiche le tantissime poi richieste di accesso agli atti penso che sia un punto di forza di cui il comune possa diciamo beneficiare perché si riuscirebbe ad incassare risorse economiche da reinvestire e soprattutto si darebbe modo con il super bonus di accelerare con le pratiche anche perché ci sono delle scadenze che sono dettate dalla legge quindi ecco va va fatta un'azione mirata e quindi tenendo conto ecco di quella che è l'organizzazione poi dei servizi degli uffici per essere rispondenti rispetto alle richieste alle esigenze che ci sono ecco questo è quello che le riflessioni le considerazioni che volevo fare penso di aver detto e aver anche ribadito dei punti che ho affrontato anche in commissione e anche nei precedenti consigli comunali altro non credo di aver di aver dimenticato nulla ho cercato di essere abbastanza sintetico rispetto alle altre volte e quindi ecco mi fermo qui poi eventualmente nella dichiarazione di voto cercherò di aggiungere qualcos'altro ma penso di aver detto grazie presidente grazie a lei di francesco anzi è stato puntualissimo anche nella durata dell'intervento perfetto meglio così allora altri interventi prego consigliere mandrelli grazie presidente io sinceramente non volevo intervenire però visto che si è trasformata questa discussione diciamo in una sorta di bilancio non tanto del bilancio di cui stavamo parlare diciamo nei punti all'ordine del giorno ma di un bilancio di questi anni di partecipazione nostra al consiglio comunale quindi di sia della opposizione della minoranza sia della maggioranza voglio dire due cose anch'io brevemente perché molto è stato già detto seppur con i modi e toni che magari non sono i miei però per alcune cose concordo non sull'affermazione del consigliere De Vecchis per quello che riguarda la politica e i partiti politici ma lui sa che io non la penso allo stesso modo perché anch'io come l'avvocato Balloni penso che l'articolo 49 della costituzione diciamo prevede proprio invece la partecipazione democratica dei cittadini in quelle forme come in altre associative eccetera però quello che diciamo di questi anni di partecipazione a questa a questa amministrazione comunale mi ha come dire un po' addolorato è stato la poca attenzione che c'è stata da parte di questa amministrazione sui problemi di principio sui problemi ambientali sui problemi che hanno a che vedere con la corretta gestione della cosa pubblica e l'attenzione e quindi il controllo di questa mi riferisco per i problemi ambientali voi sapete che ne so quando abbiamo quando io ho fatto un'interrogazione sulle cassette di polistirolo ve lo ricordate molto molto attenta su cui poi si è dovuti tornare indietro ovviamente perché naturalmente le regole europee ci prevedevano quello che allora nel 2018 forse all'inizio del 2018 avevo già avvertito che sarebbe accaduto ma a parte questo la cosa forse più grossa diciamo che mi ha lasciato un po' di amare in bocca è stato l'atteggiamento dell'amministrazione nei confronti dei rapporti di questo di questo comune con la società vicino ambiente quando questo consiglio comunale ha deciso con una delibera di dichiarare diciamo il controllo pubblico sulla sulla società e quando poi c'è stata una posizione da parte dei soci privati della società stessa c'è stata una sentenza del tar e contro questa sentenza del tar non c'è stata la volontà di ricorrere per controllare una società che è così importante all'interno del nostro comune perché sappiamo circa 12 milioni di euro l'anno non sono poco per un bilancio comunale come quello di San Benedetto del Tronte quindi sarebbe stato necessario davvero un controllo maggiore seppur poi mi è stato detto ma abbiamo chiesto perché il controllo già c'è e quindi abbiamo chiesto ulteriormente di intervenire di renderlo più efficace attraverso i rappresentanti pubblici questo non sta avvenendo e non è avvenuto quindi tutta questa situazione mi ha un po' sconcertato così come più tardi sarà votata la mozione sul consumo di suolo che è quella che già conoscete che diciamo leggermente modificata su richiesta di alcuni consiglieri di minoranza ma sostanzialmente non è tanto la mozione in sé quanto l'esprimersi su qualcosa che in questo momento è fondamentale cioè vedere nella nostra città quale sarà il futuro anche della nostra città non solo naturalmente rispetto ai problemi che hanno a che vedere con il respiro stesso del 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 suolo l'eccessiva e l'ulteriore cementificazione in una città che è la più cementificata delle marche come sappiamo quindi riflettere su questo io non penso che si debba prendere una posizione sì no ma si debba cominciare a capire dove vogliamo andare e che cosa possiamo fare per ridare a questa città un po' di come dire di capacità di affrontare le sfide climatiche soprattutto che ci aspettano nel futuro e tutto questo sembra qualcosa che va al di là diciamo della normale amministrazione ma non è così mi sarebbe piaciuto che questo comune fosse tra i primi a prendere una posizione netta e precisa anche su queste questioni cosa che non è avvenuta e non credo che avverrà neanche oggi ma insomma poi vedremo quindi ci sono tante le cose che in questi anni io ho imparato io ringrazio anche tutti i miei colleghi sia di minoranza ma anche di maggioranza per le cose che in qualche caso abbiamo fatto in comune abbiamo messo insieme però nel complesso sono stati cinque anni un po' di di fermo di mobilità non ho visto grandi cambiamenti che sarebbero stati necessari e neanche una rinascita di questa città ho visto invece come come molti altri diciamo cittadini di questa città un degrado mi dispiace doverlo dire ma questo è quello che io penso quindi lo devo dire in questo in questo consesso quindi io mi auguro che il proseguo in questi anni che verranno diciamo ci sarà un'attenzione maggiore alle sfide che il mondo ci mette davanti in questo momento anche come piccola città di una regione così poco nota peccato così bella come sono le Marche ma con un occhio con un occhio alla ha una visione un po' più ampia di quello che queste sfide ci ci devono ci mettono ci mettono a confronto e questa visione un po' più ampia un po' più larga diciamo delle scelte amministrative in questa amministrazione io non l'ho vista spero di vederla da cittadina nelle prossime amministrazioni certamente io non so se sarò presente ma anche se non sarò presente sarò presente come cittadina e come tale naturalmente continuo ad occuparmi della città in cui vivo e che amo grazie presidente grazie a lei consigliamo Andrelli altri interventi non mi arrivano richieste di altri interventi quindi direi di passare la parola al sindaco per una replica grazie presidente grazie presidente io credo che questo che qualcuno diciamo ha individuato come ultimo consiglio di di questo mandato sia stato uno dei consigli migliori nel senso che c'è stato un dibattito sereno con considerazioni che assolutamente possono essere condivisibili dalla parte versa politica però dove ci sono stati anche riconoscimenti verso quello che è stato l'agire amministrativo della della giunta e della maggioranza che io da cinque anni guido quindi diciamo per questo facevo riferimento a uno dei migliori non so se sarà l'ultimo però comunque sono assolutamente soddisfatto anche perché meravigliosa insomma la metafora del consigliere avvocato Balloni quella lì dell'avvocato del giudice insomma che fotografa perfettamente quello che è a volte il ruolo della minoranza e della maggioranza quindi diciamo è un gioco delle parti che però insomma ha avuto il beneficio di non diciamo esagerare e quindi rimanendo nell'albero del dibattito ci può stare qualsiasi affermazione quindi però onestamente ho visto un riconoscimento all'agire politico di questa amministrazione io nell'ultimo consiglio comunale non ho fatto altro che ringraziare tutto il consiglio naturalmente in particolare la mia maggioranza soprattutto nei consiglieri perché il ruolo più difficile è fare il consigliere e in questo caso il consigliere di maggioranza che spesso non ha neanche questa risonanza perché è il consigliere che lavora che fa le proposte porta il peso diciamo dell'agire amministrativo e magari non ha neanche l'amplificazione che possa avere magari un consigliere di minoranza che legittimamente perché il ruolo è il suo può presentare interrogazioni può fare proposte in tipo e quant'altro quindi diciamo in questo panorama che io conosco bene così come tanti altri che hanno condiviso con me gli anni passati insomma si incastona questo dibattito che c'è stato in un sito comunale che ricordiamo è relativo a un punto all'ordine del giorno che sono stati anche accortati sono relativi come dicevo al rendiconto di bilancio 2020 quindi è importante sottolineare un aspetto lo ha fatto l'assessore Peppa che ringrazio insieme ai ai tecnici dirigenti gli uffici e testa una regolarità tecnica e contabile che è certificata anche diciamo dai revisori dei conti quindi è una situazione come ha spiegato l'assessore migliorata rispetto a quella che noi abbiamo ereditato quindi è una gestione caratterizzata dalla società abbiamo eliminato gli sprechi siamo stati ormai individuati con un'amministrazione dal braccino corto nel senso che ha un rispetto molto diciamo importante sacramento per quello che diciamo che sono le risorse che noi andiamo a gestire che sono i soldi dei nostri cittadini quindi un esercizio amministrativo quello del 2020 che mancherà tutte le norme di difficoltà gestionare adesso questo non è il pianto il solito pianto greco ma il covid c'è stato e c'è stato in questa amministrazione io spesso e volentieri quando facciamo le riunioni nel Lanci non tanto quelle regionali ma quelle a livello nazionale ho avuto modo un paio di volte al mio presidente De Caro di dire cerchiamo di non fare di queste riunioni uno spogatoio perché è tutto un piangersi addosso ma è un piangersi reale perché effettivamente però se ormai ci siamo capitati che i sindaci devono solo diciamo avere fardelli oneri responsabilità per portare avanti una situazione cerchiamo di andare avanti senza piangere c'è addosso però non possiamo neanche dire che non c'è stato quindi se si fa qualche volta riferimento a queste difficoltà è certo che non sono campate per aree quindi termina questo esercizio amministrativo con un avanzo di competenze visto come differenza tra entrate e uscite per lo specifico anno di circa 300 mila euro questo lo dobbiamo dire abbiamo detto l'assessore per ribadire l'anno 2020 termina con un conto di cassa notevole e rilevante superiore ad euro 9 milioni a livello mai raggiunto negli anni precedenti il ricorso alle onerose sulle quali gravano interessi passivi anticipazione di cassa dalla banca tesoriera si sono di molto ridotto anzi in qualche caso proprio azzerato abbiamo effettuato tutti gli accantonamenti di enorme ammontare che la legge ma anche la potenza perché parlavo di popolatezza ci hanno obbligato per scongiurare poi dopo pericolosi problemi futuri quindi abbiamo cercato di guardare anche a futuro noi abbiamo come detto prima evitato un bilancio che era diverso da quello che poi dopo in questi cinque anni è andato in itinere in porto quindi il rendiconto del bilancio o più chiamiamolo consuntivo ha un importante valore contabile ma mica politico perché l'amministrazione tramite questo conto deve dire che si è realizzato quando lo aveva programmato in serie di bilancio di previsione che abbiamo notato prima ebbene qui si può assolutamente affermare che i buoni propositi hanno trovato pure una efficacia e tenestiva concretizzazione la verificità di queste affermazioni insomma sono sotto gli occhi di tutti il lancio di un comune è diviso lo ha spiegato bene prima anche chi mi ha preseduto in qualche intervento da parte dei consiglieri in due parti per quella corrente che attiene ai servizi comunali ordinari e per l'incontro capitale che invece si riferisce agli investimenti ecco perché prima facevo anche riferimento a Covid nella prima parte insomma sotto gli occhi di tutti questa amministrazione non ha fatto mancare nulla con i servizi in periodo edificio anzi in certe situazioni abbiamo anche migliorato questi servizi stessi no? Di cosa parlo? parlo magari delle mens l'assistenza sociale abbiamo migliorato qualitativamente e quantitativamente la nostra offerta al contempo abbiamo portato a compimento anche molti investimenti importanti sui territori ma anche questo è facilmente riscontrato tra pochi giorni inauguriamo un tratto di lungomare che come detto prima è il più bello d'Italia sicuramente tra qualche giorno riaprirà il balla dove diciamo tanti hanno diciamo si sono spesi nei loro programmi elettorali ma non ci hanno messo mai se non i corrisultati insomma a volte pure diciamo che hanno portato questa città a essere derisa e il molo sud se abbiamo rimesso in mano abbiamo un giardino mi riferisco a nottata dell'una che è una nuova cartolina per San Bernadetto insieme al posizionamento della rua della Genevieve nell'ex diciamo parco bar abbiamo parlato della piscina sì noi sulla piscina forse all'inizio dell'intendimento di questa amministrazione in particolare era quello di intervenire subito sulla piscina poi dopo un sopralluogo abbiamo visto che l'impianto natatorio insomma aveva bisogno di una distrutturazione generale e allora siamo stati coraggiosi abbiamo provato a fare questo progetto che poi dopo è andato a finire ma contestualmente in questi giorni abbiamo trovato risorse per rimettere a norma l'impianto prima ne facevamo riferimento con questi 200.000 per la piscina più 200.000 per la luce derivanti dei giorni di urbanistica ma anche intercettando dei fondi per la piscina esterna stessa quindi diciamo quando si parla di continuità facendo riferimento al lungomare o al ballarin o l'asambre di testa o riviere delle parme non si fa altro che invece ribadire è mettere in risalto proprio la discontinuità perché sul ballarin abbiamo detto dalla vendita alla potò Fontana di Trevi invece ha una riqualificazione una messa in sicurezza e una restituzione alla città di questo spazio così come lungomare permesso per dieci anni si pagava il parcheggio proprio finalizzato a far sì che poi dopo si fosse riqualificato il pezzo bancante lungomare dopo dieci anni insomma si è voluto attivare un metro per farne 400 metri quindi c'è una discontinuità e poi senza che poi fosse stato promesso a San Benedettese ricordiamoci nessun dorma è passato invece a una situazione di salvataggio grazie alle tante componenti cittadine grazie soprattutto alla discrezione al lavoro a questa bassa senza ricercare diciamo le colonne del giornale o addirittura le pagine social non è paragonabile la commissione che noi abbiamo io prima persona voluto quindi all'unanimità e che sta lavorando per cercare di trovare tutte quelle risposte alle legittime perplessità che sono emerse con quella del 2013 2014 dove c'era qualcosa di più importante si vuole il TAIC e altre situazioni quindi diciamo quando si fa riferimento a queste cose parlando di continuità no stesse situazioni risposte diverse quindi si certifica una grande discontinuità quindi io credo che questo atteggiamento anche se alla fine arriva nell'ultimo consiglio comunale non fa altro che testimoniare la bontà di questo consiglio comunale io lo avevo auspicato all'inizio e poi durante il percorso ci sono state anche situazioni di esagerazione ci possono stare in carità però quando si fa riferimento a una maggioranza che come se fosse una cosa arriva con un numero importante di consiglieri che ci assetti a dare un bilancio sia di previsione sia questo qui del rendiconto io invece credo che si indichi che c'è stato un percorso positivo condiviso e che dà alla città di San Benedetto quello giusto risalto che deve avere la città che è cresciuta sicuramente in questi anni sia in campo turistico in campo demografico ma soprattutto nel campo di essere diventata una città punto di riferimento una città protagonista io credo che San Benedetto ha una visibilità migliore di quella che era negli anni passati io di questo sono soddisfatto ringrazio i consiglieri di maggioranza i miei collaboratori in giunta ma anche quei consiglieri di minoranza che come qualcuno ricordava e viene dato atto pur nel suo ruolo di consiglieri di opposizione ha ritenuto di dover dare delle risposte e delle dei suggerimenti prima il consigliere Gabbiotto faceva riferimento a tante cose prendendosene forse anche qualche merito di aver avuto la stessa mia diciamo idea sulla questione di cui parlava prima del DIMO e quant'altro le altre cose sono tutte frutte di questa stazione rapproceverso in particolare che da 30 anni di mia promessa a questa associazione ma soltanto noi abbiamo avuto il coraggio di estrapolare dal piano delle dismissioni da scuole via Petrarca e destinarla ad attività sociale che cosa c'è di più sociale di un'associazione insomma che interviene giornalmente per andare in conto alle persone che hanno bisogno e difficoltà e emergenze quindi io penso di aver espresso quello che il il mio pensiero e ripeto alla fine di questo percorso se questo sarà veramente l'ultimo consiglio comunale mi sento di ringraziarvi e di sentirmi anche diciamo con la la coscienza tranquilla apposta per aver dato un contributo a questa città grazie presidente grazie a voi grazie sindaco sentita quindi la replica del del sindaco dichiaro chiuso la discussione e passiamo agli interventi per dichiarazione di voto prego chi vuole intervenire consigliere vecchis prego visto che pare che questo è l'ultimo consiglio e c'è il bilancio insomma stanno tutti in silenzio interveniamo in dichiarazione di voto sul fatto che sia l'ultimo io non sfato il classico mito non credo che sarà l'ultimo perché ce ne sarà sicuramente almeno un altro immaginavo perché voglio dire insomma e comunque voglio dire siamo arrivati al momento in cui si tirano le somme no e il sindaco io non sono riuscito a sentire tutto il suo intervento ma si ritiene soddisfatto di quello che ha fatto ha detto che anche la maggioranza deve essere soddisfatta noi ci rendiamo conto della soddisfazione della maggioranza e delle forze politiche di maggioranza come lo hanno acclamato da sé da tempo come ricandidato sindaco per il prossimo mandato sono mesi mi pare che già è stato candidato sindaco quant'è che è stato ricandidato è ufficialmente ricandidato da tempo no per il secondo mandato ognuno dire le somme sindaco insomma questo è un bilancio di un quinquennio da investimenti pressoché zero quei pochi fatti fatti a mutuo insomma no poi voglio dire come spiegare la continuità la continuità è semplice la continuità in questo momento la sta sperimentando anche il presidente del consiglio regionale Acquaroli che ancora non ha cambiato nessun dirigente della salità locale in una spaventosa clamorosa e disastrosa continuità e lei ha fatto la stessa cosa e le spiego che cosa comporta questo essere imbelli incapaci di governare i burocrati essere no e non cambiarli dopo un'amministrazione precedente significa lasciarsi che i burocrati no difendano tutto il loro male operato precedente è il sindaco è semplice e lei ha lasciato fare i burocrati imperfetta la cabina di regia di questo comune burocrati non è cambiata i burocrati hanno dovuto per legge rimettere a posto il bilancio non è che siccome a livello centrale si sono accorti che c'erano dei burocrati che facevano i furbetti hanno fatto le leggi per rimettere a posto ma voi non avete cambiato niente i responsabili di questo sfascio li avete lasciati al comando più continuità di questa più continuità di questa che c'è la stessa cosa sta facendo Acquaroli infatti continua il disastro della sanità locale ma Acquaroli che pensa che fra un po' io non rinizierò a parlare di sanità locale e i sei mesi il semestre bianco è finito per Acquaroli no? è ora che si inizi a occupare di programmazione sanitaria perché se no è un imbelle come avete dimostrato di essere voi in questo quinquennio poi e posteri ci sarà l'arda suendenza si voterà e si vedrà intanto sindaco mi pare che l'entusiasmo dalle parti sue per un sindaco in scadenza nella sua candidatura mi pare che non ci sia giusto Lega o parte della Lega ma i partiti sono divisi i partiti fanno guerra all'interno e fanno guerra tra loro possono fare interessi dei cittadini no e fanno interessi delle bande di partito e allora i partiti basta per me io dico quello che per me che mi sto buttando in un'esperienza dove non sono sicuramente il protagonista a scanzo gli equivoci no ma che sicuramente vede un entusiasmo per governare governare Giorgio speriamo non sia come quando sei candidato a Guaroli oh Carmine Chiodi stai zitto quando parli parli capito tenere sotto controllo e comandare la burocrazia comunale voi non l'avete fatto eh non l'avete nemmeno cambiata sfiorata toccata quindi non è cambiato niente in questo comune no si è messo riparo senza trovare nessun responsabile a migliaia di euro di milioni di migliaia milioni di euro di danni fatti in questo comune ci avete messo il copertiolo e questa è l'amministrazione a bandaggio dei cittadini questa è l'amministrazione a bandaggio dei partiti che fanno spartizioni di potere quantomeno se non di altro e manifestazioni di incapacità politica perché i partiti siccome sono eh sistemi feudali no dove ci stanno le correnti di persone piuttosto che di idee no chiaramente non formano più la classe dirigente perché chi è intelligente dà fastidio quindi deve essere non è l'utile chiota che segue e fa e quindi deve essere cacciato e produce questo disastro questo disastro è la mancanza di classe dirigente che è stata che avete espresso gaspari prima avete espresso voi in totale incapacità e in assenza di proprio poter reagire voi adesso sta esprimendo acquaroli in regione niente nessun cambiamento le prebende mi porteranno i soldi ci sta la trippa adesso da spartire e pensiamo a fare clientelismo con la trippa è un momento storico fondamentale se le amministrazioni non sanno governare si perderà un treno per i nostri figli importantissimo e voi centrodestra come è evidente da anni per quello che siete rimasti nei partiti non siete proprio minimamente in grado di governare e la regione ne è un esempio sei mesi di nulla che hanno fatto hanno gestito l'emergenza e c'è il coronavirus la pandemia che vuoi fare lascia tutto erano incapaci quando stavamo all'imposizione all'opposizione erano incapaci ma adesso gli facciamo gestire l'emergenza perché è arrivato lo spirito santo del centrodestra e li ha resi capaci ma che cazzarola dite ma perché non provate ogni tanto a fare gli interessi dei cittadini che lo scopo della politica è il bene comune non farvi gli interessi dei partiti è il bene comune il voto chiaramente signor sindaco rispetto a questo tedio a questa ineglia a questa incapacità non può essere che totalmente negativo e dirigetto sperando che questa crisi mondiale ci ci dia un futuro nuovo scavalchi questa 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 politica di piccole cose che ci ha portato a questo sfascio evidente da per tutto speriamo bene in bocca al lupo signor sindaco non so se l'hanno ricandidata ma se la dovessero ricandidare in bocca al lupo per le prossime io non sarò candidato quindi questa volta può andare tranquillo grazie consigliere prego prego presidente ci vediamo il prossimo consiglio va bene consigliera Falco prego grazie presidente dopo questa teoria sui partiti delle del nostro collega su con cui concordo sulla questione della macchina piuttosto delle persone scusa giorgio non ammetto interruzioni sul mio intervento va bene scusa lo puoi silenziare per favore chiedo scusa presidente no non chiedere scusa stai zitto e parla quando tocca a te mi basta chiedo scusa un'interruzione l'hanno fatta a me un'interruzione a me non do mai interruzione per focaccia ci dai un minuto Giovanni e silenzi per favore il consigliere De Vecchis tra l'altro ti stavo dando ragione Gorgio rilassati rilassati stai vuoto ti stavo dando ragione sul allora posso continuare l'intervento posso? ti autorizzi? mi stai autorizzando? dimmi prego prego grazie ho detto consigliera Falco riattivi il microfono scusami ma mi avevi silenziato a me? fammi capire presidente cioè allucinante sta cosa vabbè concordo con il gentilissimo collega De Vecchis sulla questione della macchinosità ma non è una scoperta del comune di San Benedetto credo che sia una questione tutta italiana della macchina burocratica e dell'enormità e della macchinosità di tutto il sistema con cui comunque dobbiamo avere a che fare e che dobbiamo utilizzare per portare a casa qualche risultato o per lo meno per amministrare perché comunque la funzione è questa solo che insomma prima di parlare di una coalizione di un gruppo di una formazione che sta di fuori dai partiti e che schifa i partiti tutti i componenti dovrebbero spogliarsi di ogni tessera di partito prima di poter sputare fango sugli altri poi sulla sul sistema partitico nazionale adesso io a livello estero non so però e purtroppo io con l'esperienza mia della lista civica sinceramente per lo meno con i partiti sai sempre con chi prendertela e a chi rivolgerti perché ci sono prima e ci sono dopo le liste civiche non si sa quindi riferimenti a livello di vertice poi non ce ne sono quindi con chi te la prendi ora invece andando poi sulle sulle questioni che più ci riguardano si è parlato sì di bilancio che naturalmente è vero collega De Vecchis ci sono dei delle regole basilari e inderogabili a cui un comune deve attenersi nella stesura del bilancio no? le regole dell'equilibrio del pareggio entrate uscite riserve benissimo però insomma che la situazione fosse un attimino leggermente un po' più più complicata e più disperata quando ci siamo insediati tutti maggioranza di opposizione questo non si può negare grazie a Dio poi abbiamo dei colleghi di opposizione come Tonino con cui io Tonino il consigliere Capriotti che tutte le sue proposte sono state accolte quindi lo abbiamo diciamo ascoltato in tutte le sue richieste quindi è preziosissimo e sarà sempre preziosissimo anche nel ruolo di consigliere di opposizione eventualmente è un soggetto prezioso per quanto riguarda invece più nel merito ho sentito parlare dei recupero crediti certo che è un problema perché molti già all'insediamento erano passati già cinque anni molti si erano prescritti la difficoltà del recupero la difficoltà degli uffici sono d'accordo che comunque bisogna razionalizzare il sistema anche per quanto riguarda le varie occupazioni le varie tasse da pagare per le occupazioni di suo pubblico adesso siamo in una fase diciamo di fermata di stallo per quanto riguarda le agevolazioni per il periodo covid per una ripresa dell'economia però effettivamente una revisione comunque è stata sollecitata di tutto il sistema dei pagamenti e sicuramente le nuove regolamentazioni la tassa unica e quindi l'obbligo di mettersi in regola prima di avere nuove autorizzazioni favorirà questi recuperi anche in modo dilazionato come abbiamo visto ho sentito parlare anche la questione del personale abbiamo attenzionato perché io non sono qui a dire che è stato fatto tutto bene perché altrimenti non sarei credibile è ovvio che più che le 27.000 euro che in sede direi di autotutela il comune ha deciso di addivenire a questo accordo a questa transazione caldeggiata non solo da me ma anche da altri colleghi dagli assessori quindi insomma cercando di ottemperare a una mancanza magari che adesso andiamo a vedere andiamo a richiamare il RUP del procedimento eccetera vogliamo nomi e cognomi basta insomma la qualifica no non è che bisogna bisogna no la privacy come c'è nella commissione di indagini c'è ovunque quindi io più che le 27.000 euro perché come sapete c'era una partecipazione di 10.000 euro del comune sulla somma andrei a vedere altre questioni su cui pure l'attenzione è puntata perché non è che eh magari uno che non va sempre sui giornali molla all'osso no? Cioè io a quello quello che caldeggiavo prima caldeggio anche adesso quindi la questione dei tanti soldi e quindi vigilare e trovare una quadra sul controllo ehm non solo giuridico giuridicamente impostato ma soprattutto eh sui servizi e sostanziale sull'impiego delle risorse per il decoro la pulizia il trattamento dei rifiuti eh sicuramente eh la questione ehm del 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 campo del campo erboso non sta adesso in questa sede credo no? C'è una commissione apposita quindi si chiarirà si chiarirà anche poi alla fine non solo se ci sia un danno concreto erariale ma anche eh se veramente eh il comportamento delle parti in causa è stato lineare no? ehm di terze persone eccetera eccetera è stato lineare e conforme ai principi no? Della della buona fede contrattuale che ci deve che deve comunque essere valutata anche in sede giudiziaria e soprattutto se alla fine la ciccia tra virgolette cioè il costo il valore dell'opera è proprio quella perché mi giungono voci che sia anche abbastanza gonfiata la cosa per quanto riguarda il decoro della città a Bambinopoli io credo che ho parlato di questa cosa anche con gli assessori credo che gli uffici siano già attivi da un po' la invito a concludere la dichiarazione di voto sì va bene sì ci sono delle cose in ballo che comunque garantiranno che le zone nevragiche della città saranno valorizzate ma anche tenute in 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 stato di decoro ma sicuramente c'è un'attenzione e continue segnalazioni agli assessori competenti per quanto riguarda proprio l'erba che diceva Tonino sui marciapiedi ci viviamo e quindi le vediamo le cose quindi le segnaliamo così come succede a voi naturalmente sul bilancio non si può non votare a favore perché comunque mi sembra che il lavoro non solo degli uffici stia proseguendo magari con nuova lena grazie grazie consigliera prego consigliera Capriotti grazie presidente beh sicuramente una cosa è certa che questo non è l'ultimo consiglio comunale perché come diceva la Parco Rosaria ci sarà l'approvazione della un secondo scusami una mozione d'ordine prima che inizi la tua dichiarazione di voto se no il discontinuo non capiamo siccome siamo in dichiarazione di voto insomma però sentire il consigliere Falco io non ho capito le motivazioni per cui voto a favore onestamente da tutta la dichiarazione di voto quindi le chiedo presidente anche per un discorso di sua tutela visto che vota a favore ha detto solo tutte le cose che non vanno no di dargli di conoscenza no non è vero consigliere non ho detto le cose che non vanno ho detto le cose che vanno che vanno potenziate consigliera mi ripaga anche lei comunque non c'è scritto nessuna legge che io devo motivare a lei il mio voto perché lei non è che non interrompe quindi stessa moneta benissimo però dicevo gli concedo altri tre minuti per capire per quale motivo vota questo bilancio perché tutto quello che ha detto se andiamo a vedere lo sbobbinamento cioè un domani dovesse essere impugnato a Stade Libera il voto potrebbe essere contestato insomma perché non c'è una conseguenza logica tra quello che ha detto e il voto che esprime no grazie consigliere professore di grammatica però le dichiarazioni di voto sono di stretta competenza del singolo consigliere non vedo la motivazione la volevo fare io presidente ma è una conseguenza temporis tra l'esposizione e la dichiarazione bisognerà cambiare il regolamento allora per evitare questi problemi d'accordo grazie consigliere grazie presidente grazie consigliere Capriotti prego la invito a riprendere la dichiarazione di voto sì vabbè volevo fuogare ogni dubbio sul fatto che questo non è l'ultimo consiglio comunale ma è l'ultimo consiglio comunale che approva un bilancio in modo complessivo per cui sia di previsione che di consiglio per cui il discorso si allarga e quindi va a diciamo un po' il riassunto dell'opera che abbiamo fatto di noi come consigliere sicuramente ci sarà un prossimo consiglio comunale che dovrà approvare il verbale della commissione d'inchiesta e poi ci sarà l'assestamento del bilancio all'udio per cui tranquillamente tranquilli ci rivediamo anche il dubbio per i saluti anche il dubbio consigliere Capriotti ecco vedi per cui penso che almeno altri due consigli ce ne faremo l'altra cosa andiamo invece sulla dichiarazione di voto tra le cose che io segnalo all'assessore Pepe e purtroppo non ho avuto tempo di dichiarare compiutamente per il mio lungo intervento precedente tutto mi sarei pensato avrei pensato che in consiglio comunale io ci sia fatto un discorso superiore di venti minuti quindi diciamo che mi sono proprio politicizzato mi dispiace per voi però c'è una grande incognita in questo in questo in questa amministrazione grandissima incognita che è Piazza Corbe che giustamente ci ricordava il collega Andimo Di Francesco questa amministrazione esordì a suo tempo con una proroga dell'autorizzazione ennesima proroga dopodiché questa proroga a forza di interrogazione sollecitazione è scaduta ma lì c'è una fideussione di 420 mila euro assessore che fine ha fatto questa fideussione che non è stata rispettata e non è stata riscossa bisogna bisogna starci attenti su queste cose perché questa e nemmeno c'è avuto un'evoluzione della costruzione quindi queste sono cose serie insomma per cui non possiamo far finta di niente di questo aspetto perché perché così come non possiamo far finta dei soldi incassati dalla Remer per la variante urbanistica concessa per l'housing sociale cioè per l'edilizia popolare che non è stata spesa nell'edilizia popolare probabilmente starà nel fondo di valutazione dei crediti però un milione di euro sono stati già incassati dalla Remer da questo comune e non sono stati spesi indirizzati nell'edilizia popolare come richiesto per autorizzare la variante perché ricordiamoci che quella variante quando si criticava le varianti dell'amministrazione precedente furono costruite la scuola Cursi la nuova Cursi grazie ad altre varianti rispetto a quella variante caro assessore non è stato speso niente non è stato disavvincolati quei soldi che punto stiamo cioè questo anche per dire io non voglio dire che queste due cose insieme ad altre che adesso non voglio fare l'elenco però ancora sono pendenti e mi sembrano che siano importanti da un punto di vista finanziario assessore l'altra cosa che mi preme sottolineare riguarda il progetto Ballarin diciamo che è stato ripulito una parte di quell'area e di questo bisogna dare atto però il progetto non c'è è carente e quando si dice è stato fatto Ballarin spero che non sia che non sia vero che quel prato che forse a cui accederemo tra qualche settimana non sia carpe stabile perché se quel prato non è carpe stabile cioè qualcosa non me ne porta possiamo dire che è stato fatto qualcosa che non sono state impediti sviluppi futuri di progettazione però quando si inizia un lavoro tutti ci insegnano che prima avevano fatto il progetto poi vanno quantificate le risorse e in questi cinque anni sono stati fatti lavori di sommorgenza perché c'erano rischi sulla salute dei cittadini determinate da richieste del prefetto perché quando cascavano i pezzi dei capannoni del carnevale denunciati dai vinci del fuoco c'è stato un obbligo da parte del dirigente di intervenire e di muoverlo quindi cioè non ci diciamo cose inesatte così come dobbiamo ringraziare l'ex presidente del consiglio Bruno Gabrielli se nuttate dell'una è stato finanziato ed è stato portato a termine piccole precisazioni semplicemente per dirvi che amministrare una città è un'altra cosa è una cosa un po' più seria per cui a nome mio e a nome dell'altro consigliere appartenente al gruppo misto ci permettiamo di dire che non è votabile questo bilancio consertivo grazie grazie consigliere Gabrielli e consigliere Balloni grazie presidente sono una cosa mi associo al desiderio espresso la collega Falco la quale ringraziando Antonio Gabrielli ha espresso l'ospicio che rimanga l'opposizione a vita per il resto in merito ai punti 6, 7, 8 e 9 studiamo era battuta ovviamente visto che siamo nella fase degli ultimi consigli comunali in merito ai punti 6, 7, 8 che sono stati illustrati egregiamente l'assessore Peppa da Italia poterà favore con me grazie consigliere Balloni se non ci sono altre richieste di interventi per dichiarazione di voti di voto metti e passiamo alla votazione dei punti 6, 7, 8 e 9 dell'ordine del giorno iniziando dal punto numero 6 esame d'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020 Ballatore favorevole scusate mi spegnete i microfoni per favore lo attivate solo per il voto grazie perché se no allora Balloni favorevole Capriotti contrario Chiarini favorevole Chiodi favorevole Crescenzi favorevole Croci favorevole Curzi favorevole Devecchis contrario Delzombo favorevole Di Francesco contrario Falco favorevole Gabrielli contrario Girolami favorevole Lelli favorevole Mandrelli contraria Marzonetti favorevole Massimiani favorevole Muzi favorevole Pellei contrario Pignotti favorevole Piunti favorevole Pompili favorevole Sanguigni Mario con diciassette voti favorevole e sette contrari il consiglio approva il punto numero sei passiamo all'immediata eseguibilità Ballatore favorevole Balloni favorevole Gabriotti contrario Chiarini favorevole Chiodi favorevole Crescenzi favorevole Croci favorevole Curzi favorevole De Vecchis contrario Del Sompo favorevole Di Francesco contrario Falco favorevole Gabrielli Contrario Girolami favorevole Lelli favorevole Mandrelli Contraria Marzonetti favorevole Massimiani favorevole Musi favorevole Pellei contrario Pignotti favorevole Piunti favorevole Favorevole Compili favorevole Sanguigni Con 17 voti favorevoli e 7 contrari si approva l'immediata eseguibilità Passiamo alla votazione del punto numero 7 rinnovo contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale dirigente per il trienno 2016-2018 applicazione avanzo accantonato Ballatore Ballatore favorevole Balloni favorevole Capriotti contrario Chiarini favorevole Chiodi favorevole Crescenzi favorevole Croci favorevole Cursi favorevole De Vecchis contrario Del Zompo favorevole Di Francesco contrario Valco favorevole Gabrielli contrario Pirolami favorevole Lelli favorevole Mandrelli Tradia Marzonetti favorevole Massimiani favorevole Muzzi favorevole Pellei contrario Pignotti favorevole Piunti favorevole Pompili favorevole Sanguigni Contrari Punto numero 7 che si approva con 17 voti favorevoli e 7 contrari Anche qui c'è da votare l'immediata eseguibilità Ballatore Favorevole Balloni favorevole Capriotti contrario Chiarini favorevole Chiodi favorevole Crescenzi favorevole Croci favorevole Curzi favorevole Devecchis contrario Del Sompo favorevole Di Francesco contrario Falco favorevole Gabrielli contrario Girolami favorevole Lelli favorevole Mandrelli contraria Marzonetti favorevole Massimiani favorevole Musi favorevole Bellei Contrario Gignotti favorevole Piunti favorevole Obili favorevole Sanguigni Contrario Immediata eseguibilità approvata con 17 voti favorevoli e 7 contrari Passiamo al punto numero 8 variazione al bilancio di previsione 2021-2023 applicazione avanzo di amministrazione vincolato Ballatore favorevole Balloni favorevole Capriotti Capriotti Contrario Chiarini favorevole Chiodi favorevole Crescenzi favorevole Croci favorevole Curzi Curzi favorevole De Vecchis contrario Del Sompo favorevole favorevole Di Francesco favorevole Falco favorevole Gabrielli contrario Girolami favorevole Favorevole Lelli favorevole Mandrelli Radia Parzonetti favorevole Massimiani favorevole Musi favorevole Pellei contrario Pignotti favorevole Piunti favorevole Pompili favorevole Sanguigni contrario Punto numero 8 che viene approvato con 17 voti favorevoli e 7 contrari adesso anche qui la votazione per l'immediata eseguibilità Ballatore favorevole Balloni favorevole Capriotti contrario Chiarini favorevole Chiodi favorevole Crescenzi favorevole Croci favorevole Curzi favorevole Devecchis contrario Nilsompo favorevole Di Francesco contrario Falco favorevole Gabrielli contrario Virolami favorevole favorevole Melli favorevole favorevole Mandrelli Radia Barzonetti favorevole Massimiani favorevole Favorevole Musi favorevole Pellei contrario Pignotti Pignotti favorevole Pompili favorevole Favorevole Sanguigni Sanguigni Piunti Piunti favorevole Pompili Favorevole Sanguigni Immediata eseguibilità anch'essa approvata con 17 voti favorevoli e 7 contrari Ultimo punto dell'accorpamento punto numero 9 variazione al bilancio di previsione 2021-2023 applicazione avanzo di amministrazione destinato Ballatore favorevole Balloni favorevole Capriotti contrario Chiarini favorevole Chiodi favorevole Scenzi favorevole Croci favorevole Cursi favorevole De Vecchis contrario Del Sompo favorevole Di Francesco di Francesco Falco favorevole Gabrielli Gabrielli contrario contrario Girolami favorevole Lelli favorevole Mandrelli Marzonetti Marzonetti favorevole Massimiani Favorevole Favorevole Muzi favorevole Pellei contrario Pignotti favorevole Piunti favorevole Bompili favorevole Sanguigni contrario punto numero 9 che si approva con 17 voti favorevoli e 7 contrari immediata eseguibilità Ballatore favorevole Balloni favorevole Ursi favorevole De Vecchis contrario Del Sompo favorevole Francesco contrario Falco favorevole Gabrielli contrario Girolami favorevole Lelli favorevole favorevole Mandrelli Mandrelli eh contraria Massimiani eh no scusa Marzonetti favorevole Massimiani favorevole Musi favorevole Pellei contrario Pignotti favorevole Piunti favorevole Pompili favorevole Sanguigni Contrari Immediata eseguibilità approvata con 17 voti favorevoli e 7 contrari Passiamo al punto numero 10 che anch'esso in sede di conferenza di capi gruppo è stato accorpato al punto numero 11 le due delibere riguardano il punto numero 10 istituzione musicale Vivaldi articolo 26 regolamento di organizzazione approvazione programma 2021-2023 e bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023. Il punto numero 11 la delibera è istituzione musicale Vivaldi articolo 23. regolamento di regolamento di regolamento di regolamento di regolamento di organizzazione approvazione schema di rendiconto della gestione per l'anno 2020. l'accorpamento prevede comunque una discussione, tempi di discussione sull'intervento di 10 minuti e 5 minuti per le dichiarazioni di voto. Passo la parola all'assessore Ruggeri che ci illustrerà le delibere. Prego assessore. grazie presidente, grazie della parola, buongiorno a tutta l'assise. Sì, come lei ha elencato il progetto delle due deliberazioni, torniamo in consiglio comunale per approvare come ormai da quando il consorzio Vivaldi si è costituito in istituzione, quanto il CDA ha già approvato circa il bilancio di previsione 2021, il pluriennale 21-23 e contestualmente il rendiconto 2020. Ora, prima di entrare nel merito degli atti che comunque abbiamo analizzato in commissione, sono effettivamente le risultanze di un bilancio molto sano e soprattutto agevole. mi preme ringraziare soprattutto dopo questo anno, questo periodo di pandemia, chi ha lavorato affinché l'istituzione Vivaldi non cedesse alle varie chiusure piuttosto che lezioni da remoto, e cioè tutti coloro che hanno continuato chiaramente nei limiti del possibile a rendere l'istituzione attiva ed efficace nei confronti di tutti gli alunni iscritti. Con questo chiaramente il ringraziamento va oltre al direttore amministrativo dottor Rosati, al tutto il consiglio di amministrazione, ma soprattutto al corpo docente che non si è risparmiato e che sin dall'inizio della pandemia sotto nostro sollecito ha anche organizzato delle attività che potessero comunque continuare a far sentire gli allievi vicini ad una scuola, ad un'istituzione scolastica così importante, qual è l'istituzione Vivaldi che comunque agevola e favorisce l'arte della musica dai più piccoli, quindi dalle lezioni per i più piccoli sino ai più grandi arrivando anche ad avere delle convenzioni importanti con i conservatori. Tutto questo non è scontato, non sarebbe stato scontato, tanti istituti hanno chiuso, noi abbiamo cercato di mantenere attive tutte le attività che abbiamo potuto garantire, quindi le attività che non potevano svolgersi per via chiaramente dei gruppi e della pandemia sono state sospese. Con questo però chiaramente oggi portiamo all'approvazione il bilancio e anche il piano programmatico. Il piano programmatico conta chiaramente di riuscire a ripartire nelle piene funzioni delle attività, contando comunque di riattivare i corsi, quali erano i corsi di propedeutica, di solfeggio, che chiaramente abbiamo dovuto chiudere, augurandoci che questa situazione pandemica almeno dal 2022 possa essere superata. Chiaramente in questi cinque anni due note voglio sottolinearle, cioè la nostra amministrazione è arrivata a costituire l'Istituto Vivaldi perché comunque il consorzio doveva essere chiuso, viste le funzioni della provincia che venivano meno e chiaramente c'è stato uno sforzo sia gestionale sia economico da parte dell'ente nei confronti dell'Istituzione Vivaldi. Questo a sottolineare quanto sia importante una scuola cittadina che garantisse questa attività, diciamo parallela all'attività scolastica, ma soprattutto che riuscisse a contenere i costi per questo tipo di attività, perché comunque non sempre, soprattutto in questo periodo, è così facile, è così agevole per le famiglie riuscire a garantire tutte le attività extrascolastiche. Tutto questo mi preme sottolineare una cosa in particolare, cioè il fatto che sono stati approvati degli sconti sulla retta annuale concessi agli utenti in base al reddito su certificazione ISEE. È un piccolo segnale che però ha garantito a molti di riuscire a continuare a portare all'attenzione dei propri figli, dei propri ragazzi, l'arte della musica. Questo, ripeto, non era niente di scontato, tutto questo è stato possibile perché l'amministrazione assieme al Consiglio di Amministrazione e al suo direttore amministrativo sono riusciti a trovare la modalità per poter andare avanti e soprattutto incontro alle famiglie. Ora, non mi dilungo se non nel dire che comunque da quando ci siamo insediati abbiamo costituito questo nuovo Consiglio di Amministrazione, è stata anche riformulata la graduatoria del corpo docenti che era lì bloccata ormai da più di 16 anni e comunque abbiamo cercato di migliorare e siamo riusciti a garantire una continuità nell'innovazione. Ora, tutto questo mi porta a concludere nell'aspetto tecnico finanziario di questo bilancio che poi avete letto negli atti. In entrata le voci principali sono rappresentate dal trasferimento corrente ordinario del Comune che è pari a 78 mila euro e dai proventi delle tariffe degli utenti che sono leggermente ridotti quest'anno a 65 mila euro ma questo ci fa sempre sereni perché comunque le iscrizioni ci sono state e sono state sinceramente più di quanto anche personalmente mi aspettavo. Ora, per quanto riguarda poi la parte della spesa chiaramente ci sono gli stipendi, i compensi per gli insegnanti e quelle spese che sono utili per garantire i saggi la festa della musica che nella massima sicurezza quest'anno portiamo in Palazzina Azzurra per quanto riguarda poi le attività di gestione dell'istituzione una somma pari a 8 mila e 800 euro affinché ci siano tutte le assistenze e i software specifici appunto per garantire questa parte contabile. Dopo una analisi complessiva appunto di questo bilancio ripeto sano e anche abbastanza agevole nel rendiconto di gestione il Consiglio di Amministrazione ha approvato il 12 maggio ecco perché oggi siamo qui ad accorpare questi due punti e a discutere insieme il 12 maggio ha approvato lo schema di rendiconto della gestione dell'istituzione per l'anno 2020 con un avanzo di amministrazione pari a 69 mila euro circa quindi non si è a conoscenza di debiti rientranti in debiti fuori bilancio o di situazioni di squilibrio finanziario e pertanto ritengo che possiamo serenamente portare per chiudere diciamo questo anno scolastico e immaginare una nuova programmazione 2021-2023 sicuramente più agevole fuori da questo periodo difficile che stiamo vivendo. Grazie. Grazie Assessore Ruggeri dichiara aperta la discussione chi vuole intervenire prego consigliere Balloni Grazie Presidente Sì, voglio ringraziare Assessore Luizia Ruggeri per questo quinquennio oltre che per la bontà quindi del rendiconto del bilancio e quindi ringrazio anche il Dottor Rosati devo dire che oltre all'importante studio di Vati con questa trasformazione che ha avuto voglio proprio apprezzare il fatto in quest'ultimo periodo questo del Covid in realtà c'è stata questa forza questa volontà che organizzandosi impennandosi in nuove situazioni di maniera come presidio culturale che è un aspetto per me importante per far sì che insomma la musica abbia dato un sostegno una forza ancora a tutti coloro che si avvicinano sono anche credo molti le lezioni vengono fatte anche a molti minori molti bambini insomma all'approccio alla musica credo che sia qualcosa di veramente lodevole e che ci auguriamo insomma possa portare anche successivamente insomma il sviluppo a questo istituto che è una delle istituzioni anche più più antiche che abbiamo tra virgolette insomma ormai da tempo in cui il Comune vi collabora vi insedia e insomma riesce a dare questo ma anche utilizzando un bacino d'utenza molto più ampia nella nostra città credo che la bellezza salvia anche la musica abbia questo fattore benefico anche a livello psicologico in un mondo in cui quest'ultimo anno siamo stati veramente molto molto stretti e molto difficile soprattutto credo anche per l'insegnamento la scelta c'è stata so insomma io che ho avuto modo di essere contattato da persone che si servono diciamo così dall'istituto insomma hanno apprezzato quanto lo sforzo che è stato fatto quindi dal nostro stesso e quindi dalla nostra amministrazione per cui anch'io mi associo insomma ai ringraziamenti al sottore Luceri sia anche al presidente CTA Francesco Romani il consigliere Claudio Di Ancel Maria Di Sanpe anche al maestro Daniela Tremoroli se non sbaglio al nostro dottor Rosati insomma che gestisce alla grande questa situazione e nuovamente un caro saluto all'assessore Luceri grazie consigliere Balloni altri interventi se non ci sono altre richieste passi a gentili impegni improrocabili mi obbligano escluso ok grazie no è il consigliere De Vecchis che scrive impegni improrocabili lo allontanano dal consiglio non escludendo una futura riconnessione quindi non essendoci richieste di di intervento io direi di passare direttamente a richieste per dichiarazione di voto se non ci sono richieste per dichiarazione di voto procedo subito con la messa votazione del delibere al punto numero 10 e punto numero 11 procediamo prima con la votazione del punto numero 10 istituzione musicale vivaldi articolo 26 regolamento di organizzazione approvazione piano programma 2021-2023 bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ballatore favorevole balloni favorevole capriotti contrario chiarini favorevole chiodi favorevole crescenzi favorevole croci favorevole cursi favorevole dei vecchi si è allontanato del sombo favorevole di francesco contrario falco favorevole gabrielli contrario girolami favorevole lelli favorevole mandrelli barzonetti favorevole bassimiani favorevole muzzi favorevole pellei favorevole pignotti favorevole piunti favorevole pompili favorevole sanguigni favorevole favorevole con 17 favorevoli e 7 contrari favorevole sì allora presidenti favorevoli sono molto di più 18 adesso ricontiamo adesso ricontiamo 19 19 favorevoli 4 contrari l'assemblea approva il punto numero 10 passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità ballatore favorevole balloni favorevole capriotti chi è? capriotti contrario chiarini favorevole chiodi favorevole crescenzi favorevole croci favorevole cursi favorevole del sombo favorevole di francesco contrario palco favorevole caprielli contrario girolami favorevole lelli favorevole mandrelli mandrelli sì contrario marzonetti favorevole massimiani massimiani non si è scollegato Musi favorevole e lei favorevole presidente sì scusa ma ero forse un problema di connessione avevo comunque il mio voto è favorevole se le fa interessare ok pignotti favorevole piunti favorevole pompili favorevole sanguigni favorevole con 19 voti favorevoli e 4 contrari l'assemblea approva l'immediata eseguibilità passiamo al punto numero 11 istituzione musicale Vivaldi articolo 28 regolamento di organizzazione approvazione schema di rendiconto della gestione per l'anno 2020 ballatore favorevole balloni favorevole capriotti favorevole chiarini favorevole chiodi favorevole crescenzi favorevole croci favorevole ursi favorevole del sompo favorevole di francesco di francesco non è presente falco favorevole gabrielli contrario girolami favorevole lelli favorevole mandrelli contraria marzonetti simiani favorevole musi favorevole pellei favorevole pignotti favorevole piunti favorevole pompili favorevole sanguigni favorevole due contrari due contrari tre presidente mi era assentato un attimo se posso votare altrimenti sì dal momento della votazione ero ero prego prego contrario quindi quattro contrari e diciannove favorevoli viene approvata la la delibera al punto numero undici passiamo all'immediata eseguibilità ballatore favorevole balloni favorevole capriotti favorevole chiarini favorevole chiodi favorevole crescenzi favorevole croci favorevole cursi del sombo favorevole falco favorevole di francesco mi sono dimenticato scusa contrario contrario gabrielli contrario girolami lelli favorevole mandrelli marzonetti favorevole massimiani favorevole musi favorevole pellei favorevole pignotti favorevole piunti favorevole pompili favorevole sanguigni favorevole sempre 4 contrari 19 favorevoli si approva l'immediata eseguibilità del punto numero 11 passiamo al punto numero 12 consorzio per l'industrializzazione delle valli del tronto dell'aso e del tesino piciano consind nomina rappresentanti del comune di san benedetto del tronto in seno al consiglio generale del consorzio do la parola al sindaco piunti che ci illustra brevemente la delibera in oggetto ci sono da nominare le figure riconducibili all'amministrazione comunale sono figure che non possono ricoprire il ruolo di consigliere comunale quindi invito il consiglio a esprimere le loro preferenze sappiamo rispetto a una maggioranza e una minoranza e quindi ci apprestiamo al voto grazie sindaco dichiaro aperta la discussione sì dobbiamo votare no prima apro la la discussione se non ci sono interventi dichiaro dichiaro chiusa contestualmente la discussione e procediamo con la votazione di questa delibera che come sapete prevede la nomina di un rappresentante e quindi utilizziamo lo stesso sistema che abbiamo utilizzato che è stato utilizzato da alcuni consiglieri e da una fattispecie quelli che fanno parte della della commissione speciale sullo stadio quindi il voto telematico perché la la nomina nome cognome prevede la segretezza dell'espressione di di voto voi avete ricevuto dal ced su le vostre caselle zimbra delle mail e vi ricordo come già vi è stato sollecitato dal ced stesso che la mail valida è l'ultima che avete ricevuto dove troverete dei link a cui collegarvi una per la l'espressione del voto per la maggioranza e una per l'espressione del voto per ognuno di voi ha il link in base a che sia maggioranza o minoranza quindi io direi che possiamo partire con la votazione della iniziamo dalla minoranza facciamo aprire il sistema assenti dei vecchi se assenti e dei vecchi se morganti sono assenti quindi li può rimuovere ok solo un attimo che l'attiviamo 10 secondi verrà attivato potrete aprire il vostro link sempre per la minoranza aperto il link è aperto quindi la minoranza può procedere alla votazione collegandosi al link ricevuto a l'attività o a l'attività o 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 mi dà ancora errore presidente non mi fa cedere hai controllato Flavia che è l'ultima mail ricevuta dove c'è scritto definitivo invito per partecipare mi dà errori anche a me l'ultima mail non è più disponibile esatto anche a me ricevuta ieri oggi ieri la votazione la votazione Rosaria tu non devi avere questo link Rosaria tu non lo puoi aprire perché tu sei di maggioranza perfetto va bene per la Mandrelli Flavia però dovresti avere definitivo invito per partecipare a 20 21 05 29 Consind nomina rappresentante di minoranza del comune di San Metto del Tronto non ce l'ho lo puoi adesso te lo rimandano subito grazie grazie a quale mail a Zimbra Gmail la mia si va bene si si hanno la mia mail non ha votato neanche per lei lo mandiamo per lei consigliere per lei non risulta che abbia votato domenico ci sei provo a chiamarlo il cellulare provo un po' a chiamarlo invito a Mandrelli inviato consigliere a Mandrelli dovrebbe aver ricevuto la nuova mail sulla sua Gmail ancora no provi a fare un refresh lo sto facendo ma non c'è niente è lì sullo spam ah ok è arrivato si ok 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 hai cliccato su invia Flavia arrivo arrivo sto scrivendo Il consigliere per lei non è reperibile al cellulare e non mi risponde alla chiamata e non ha proceduto neanche all'espressione di voto. Non so, lo consideriamo assente. Puoi fermare il sistema, sì. Fermata, ti dico le risposte. Sì. Subito te le dico. Sì. Quindi, per quanto riguarda l'espressione di voto della minoranza, ho un'unanimità sul nome di Maurizio Di Cosmo. Adesso procediamo alla votazione. Assenti nella maggioranza? No, no. Ok. No. Votazione aperta. Procediamo alla votazione per quanto riguarda il rappresentante di maggioranza. La votazione è aperta, potete procedere. La votazione è aperta, potete procedere. Grazie. Allora. Allora. Grazie. Il consigliere Balloni Gianni se l'è dato a gambe Balloni? Sì, vedo la telecamera ma non vedo lui eccolo qua Prego consigliere Balloni proceda alla votazione è arrivata è cambiata postazione scusate ma a me io non ho votato ma mi da questionario è già stato compilato perché hai già votato non ho votato come no va bene sono tutti quanti ok è arrivata anche quella di Balloni perfetto ok abbiamo ricevuto tutte le espressioni di tutti i votanti abilitati il risultato adesso me lo comunicano abbiamo maggioranza bianca abbiamo 15 massimo un voto e una bianca 15 massimo e una bianca sì poi c'è un voto e una bianca allora il risultato della votazione per quanto riguarda la maggioranza per la nomina del componente abbiamo 15 espressioni di voto con il nominativo massimo cursi una espressione di voto con un nominativo cursi solo cursi quindi da intendere sicuramente come massimo cursi quindi abbiamo 16 espressioni di voto e una scheda bianca quindi i due nominativi espressi dal consiglio sono massimo cursi per la maggioranza e Maurizio di Cosmo per la minoranza ok segretario la minoranza 5 su 5 si chiama Maurizio di Cosmo per la maggioranza sono 16 che hanno espresso massimo cursi e uno speda bianca ok perfetto allora presidente mi scusi questi nominativi comunichiamoli il prima possibile alla regione perché devono provvedere hanno chiesto rapidità grazie grazie sindaco provvederemo rapidissimamente grazie quindi la votazione è andata a buon fine passiamo al punto numero 13 sostituzione nomina di un nuovo rappresentante del consiglio comunale nella commissione del mercato ittico all'ingrosso prego signor sindaco per l'illustrazione e anche qui dobbiamo sostituire il componente uscente che aspetta che spetta una figura della minoranza del consiglio comunale un ruolo che era stato ricoperto dall'avvocato consigliere Rosaria Falco e che oggi insomma vede la l'individuazione di un nuovo membro di maggioranza quindi questo è il motivo per cui oggi andiamo a sostituire il membro grazie grazie sindaco se non ci sono richieste di intervento direi anche qui di passare subito alla votazione anche qui prevista votazione che è prevista sempre col metodo della delibera precedente in quanto si dovrà esprimere nome e cognome del sostituto del consigliere Falco in seno alla commissione del mercato ittico la votazione sarà eseguita solo ed esclusivamente dai membri della minoranza e i quali dovranno accedere al link che gli è stato inviato nella penultima mail che avete ricevuto no presidente guardi bene probabilmente anche la maggioranza dovrà votare no 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 la maggioranza no sindaco non è stato rappresentato questa eventualità poi naturalmente la maggioranza avrebbe lasciato il membro della minoranza no perché perlomeno io mi sono rapportato col segretario generale la sintesi è che essendo in quota rappresentante in quota minoranza la votazione va fatta dalla minoranza perfetto grazie quindi se a posto quindi se il il ced mi senti allora gli assenti sono il consigliere De Vecchis e la consigliera Morganti per lei io continuo a vederlo oscurato però io lo vedo oscurato qua chiamalo un po' perché se vota io lo devo vedere a cosa scusate un attimo perché devo essere sicuro della presenza del consigliere per lei non risponde e allora lo consideriamo assente sì 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 una votazione un momento dimmi quando clicchi la votazione è ufficialmente aperta quindi i membri della minoranza quelli presenti logicamente possono procedere alla votazione quindi sì 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 arrivano manca uno di cinque hanno votato quattro ha aperto il link ha votato votazione chiusa votazione cinque i votanti un'animità su Antonio Gabriotti Antonio Gabriotti quindi cinque i votanti all'unanimità hanno espresso il nominativo di Antonio Gabriotti che viene quindi eletto nella commissione del mercato ittico e va a prendere il posto della consigliera Falco terminata la votazione del punto numero tredici passiamo al punto numero quattordici intervento di edilizia residenziale sociale sperimentale in autocostruzione cooperativa Rivera delle Palme lotto via tonale modifiche alla convenzione e approvazione do la parola al sindaco che ci illustra la delibera grazie presidente questa è una delibera che è stata un punto all'ora del giorno che è stato illustrato già nelle commissioni di mercoledì sera convocate dai due presidenti per lei e Cursi però insomma beneficio di chi non fa parte della commissione posso fare una sintesi insomma si tratta del lotto sito in via tonale che è stato acquisito dai privati da parte del comune nel 2012 tramite l'attuazione del programma denominato Pruax e questo lotto è destinato dal programma menzionato ad edilizia sociale ed originariamente era stata indicata dal Pruax la gestione all'ERAP Marche per la realizzazione di una palazzina di edilizia pubblica subvenzionata poi nel 2016 però non durante la nostra amministrazione ma la precedente deriverò la precedente amministrazione la modifica del Pruax in consiglio comunale con lo spostamento sul lotto dell'ex mattatoio di via Manara dell'intervento ERAP e la previsione sul lotto di via tonale di un intervento da parte di una costituenza cooperativa di autocostruttori con la partecipazione ad un bando regionale di finanziamento effettivamente si è poi addivenuta la cessione di indirizzo superficie dell'otto in questione alla cooperativa per i diritti di edilizia sociale con un atto notarile del 2019 con una previsione di una volumetria massima da realizzarsi pari a quella dell'allora PRG e cioè pari a 3200 metri cubi poi successivamente ci si è accorti con il rilascio del permesso di costruire i limiti imposti dal bando regionale proprio per l'autocostruzione non permettevano il raggiungimento del limite di volumetria indicato dal PRG e pertanto la cooperativa ha richiesto la riduzione del prezzo di cessione del diritto di superficie quindi con questa delibera si ratifica la riduzione del prezzo di cessione con una nuova stima fatta dall'ufficio che riduce di 70.000 euro il costo del diritto portando il prezzo di cessione a 263.000 euro di fatto già corrisposto dalla cooperativa con il pagamento rateale garantito da una polizia emessa alla stipula dell'atto citato la procedura prevista per la riduzione della capacità volumetrica dell'otto e quindi per la riduzione del prezzo di cessione alla cooperativa del diritto di superficie è stabilita dall'accordo di programma PROAX che è stata approvata dal Consiglio Comunale nel 2010 e prevede una delibera di approvazione dei nuovi parametri urbanistici di altezza e volume dell'otto in questione atto che verrà trasmesso per conoscenza poi alla provincia alla regione e al ministero questo era l'argomento che abbiamo trattato in commissione dove sono state anche siamo richiesti di alcuni chiarimenti che sono stati assolutamente dati in modo chiaro dagli uffici dall'architetto Sinatra e dal dirigente Politori che sono presenti grazie grazie sindaco prima che passiamo alla alla discussione del punto in oggetto dovremo un attimo ritornare sulle sui punti precedenti perché sulla votazione e l'espressione dei membri sia del Consind che del mercato ittico dobbiamo procedere alla votazione comunque della delibera con i nominativi inseriti in delibera quindi prima di aprire la discussione al punto numero del punto numero quattordici procediamo alla votazione dei punti numero dodici e tredici partendo prima dal punto numero dodici che è il Consorzio per l'industrializzazione dei valli del Tronto dell'Asio del Tesino Piciano Consind nomina rappresentanti del Comune di San Vento del Tronto insieme al Consiglio Generale del Consorzio che prevede ha previsto e ha espresso la nomina di Massimo Cursi per la parte della maggioranza e di Maurizio Di Cosmo per la parte della minoranza Favorevole Balloni Favorevole Capriotti Favorevole Chiarini Favorevole Chiodi Favorevole Crescenzi Favorevole Croci Favorevole Cursi Favorevole Del Sompo Favorevole Di Francesco Favorevole Falco Favorevole Gabrielli Favorevole Girolami Favorevole Lelli Favorevole Mandrelli Favorevole Marzonetti Favorevole Massimiani Favorevole Muzi Favorevole Pellei Presidente Io non ho partecipato alla votazione perché ho avuto un impedimento però voto favorevole Perfetto Perfetto Grazie Pignotti Favorevole Piunti Favorevole Pompili Favorevole Sanguigni Favorevole Inseriti in delibera viene approvata la delibera stessa all'unanimità del Consiglio Procediamo al punto numero 13 sostituzione e nomina di un nuovo rappresentante del Consiglio Comunale nella Commissione del Mercato Intico all'ingrosso che ha visto la votazione e l'indicazione del Consigliere Antonio Capriotti in quota minoranza. Nella Commissione della Commissione della Commissione della Commissione della Commissione Nella Commissione stessa. Procediamo alla votazione, Ballatore Favorevole E colgo l'occasione come Presidente della Commissione per dare il benvenuto all'amico Tonino Grazie A nome di Tonino Balloni Favorevole Capriotti Favorevole, ringrazio il Presidente Chiarini favorevole Chiodi favorevole e prego il buon Tonino di offrire una cena perché è importante col primo gettone Crescenzi favorevole Croci favorevole Ursi favorevole no deve che si senti del sompo favorevole Di Francesco favorevole Falco favorevole Gabrielli favorevole Girolami favorevole Lelli favorevole Mandrelli favorevole Marzonetti favorevole Massimiani favorevole Musi favorevole Pellei favorevole Pignotti favorevole favorevole Piunti favorevole Pompili favorevole Sanguigni favorevole la delibera al punto numero 13 viene approvata all'unanimità adesso a seguire le due votazioni per l'immediata eseguibilità quindi la prima procediamo per l'immediata eseguibilità del punto numero 12 ballatore favorevole 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 Gabrielli favorevole Gabrielli favorevole favorevole Lelli favorevole Mandrelli favorevole favorevole Barzonetti favorevole Piunti pignotti pignotti favorevole piunti favorevole Pompili favorevole sanguigni sanguigni favorevole Immediata eseguibilità del punto numero 12 approvata con unanimità dei presenti Passiamo all'immediata eseguibilità del punto numero 13 Ballatore favorevole Balloni favorevole Capriotti favorevole Chiarini favorevole Chiodi favorevole Ceci favorevole Proci favorevole Pulsi favorevole Del Sompo favorevole Falco favorevole Gabrielli favorevole Girolami favorevole Lelli favorevole Mandrelli favorevole Marzonetti favorevole Massimiani Massimiani favorevole favorevole Musi favorevole favorevole e lei favorevole Ok terminate le votazioni dei punti precedenti ritorniamo al punto numero 14 e dopo aver ascoltato l'illustrazione che ci ha fatto il sindaco dichiaro aperta la discussione chi vuole intervenire se non ci sono richieste di intervento passo subito alle richieste per dichiarazione di voto dichiarazioni di voto che non ci sono quindi procediamo subito alla votazione del punto numero 14 intervento di edilizia residenziale sociale sperimentale in autocostruzione cooperativa Riviera delle Palme lotto via tonale modifica la convenzione e approvazione Ballatore 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 mi è bloccato la connessione Ballatore perché lo vedo da quando sa che Capriotto entrerà nella commissione del porto è andato è andato fatti i complimenti sta facendo i tre dini eccolo Mario 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 Favorevole 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 Sì Adesso sì Adesso sì Ci fa perdere tempo Balloni Abbiamo parlato di te Balloni Favorevole Favorevole Capriotti Mi astengo Astenzione Chiarini favorevole Chiodi Favorevole Crescenzi Favorevole Croci Favorevole Favorevole Cursi Favorevole Del Sompo Favorevole Falco Favorevole Gabrielli Gabrielli è uscito Favorevole 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 Mandrelli Astenuta Marzonetti Favorevole Massimiani Presidente mi sente? Sì Favorevole Muzi Favorevole 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 Sanguigni Astenuto Quindi sono quattro astenuti e diciannove, no, diciotto, perché uno è mancato. Quattro astenuti e diciassette voti favorevoli, l'Assemblea approva il punto, dalla delibera al punto numero quattordici. Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Ballatore Favorevole Balloni Favorevole Capriotti Astenuto Chiarini favorevole Chiodi Favorevole Crescenzi Favorevole Croci Favorevole Cursi Favorevole Del Sompo Favorevole Falco Favorevole Girolami Favorevole Lelli Favorevole Mandrelli Astenuta Barzonetti Favorevole Massimiani Favorevole Musi Favorevole E lei Favorevole Pignotti Pignotti Favorevole Favorevole Piunti Favorevole Pompili Favorevole Sanguigni Astenuto Con quattro astensioni e diciassette voti favorevoli si approva l'immediata eseguibilità del punto numero 14 Passiamo al punto numero 15 che prevede mozione e iniziativa consigliera Flavia Marcella Mandrelli ad oggetto sostegno alla proposta di legge norme per l'arresto del consumo di suolo e per riuso dei suoli urbanizzati decreto legislativo AS 164 in discussione al Senato commissioni congiunta agricoltura e ambiente Prego consigliera Mandrelli se ci illustra la mozione Sì diciamo che la mozione mi sentite? Sì sì La mozione rimane quella che avevo già presentato si ricorda presidente che non è stata votata e che lei mi disse Sì 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 Diciamo se la ripresenta sarà non sarà discussa ecco non ha importanza io ho cambiato solo ho fatto dei piccoli cambiamenti che mi erano stati richiesti ma veramente cose molto infinitesimali dal mio punto di vista E quindi sostanzialmente la mozione è quella però io vorrei così aggiungere appena una cosa cioè far presente diciamo a chi poi dovrà votarla e se vorrà votarla Che questo cioè nell'ultimo rapporto ISPRA cioè quello del 2020 c'è da sapere che in Italia nel 2019 ovviamente si riferisce all'anno precedente Il suolo è stato consumato a una velocità di due metri quadrati al secondo In totale la copertura e l'impermeabilizzazione della risorsa non rinnovabile sono state pari a 57 milioni di metri quadrati Questo appunto è certificato dall'ultimo rapporto ISPRA sul consumo di suolo presentato nel luglio del 2020 E oggi in Italia ciascun abitante ha in carico 355 metri quadrati di superficie occupate di tacemento asfalto E' un valore che cresce di circa due metri quadrati l'anno mentre la popolazione diminuisce perché c'è questo rapporto Considerato il calo delle nascite si dice appunto nel rapporto è come se avessimo costruito 135 metri quadrati per ogni nuovo nato Il 2020 è l'anno in cui ogni paese dell'Unione Europea deve attuare politiche efficaci per tutelare e ridurre in modo significativo il consumo di suolo Per azzerarlo in teoria entro il 2020, nel 2050 L'Italia è in ritardo, non c'è ancora questa legge nazionale ed ecco il motivo per spingere Che anche un consiglio comunale in qualche modo possa incidere per fare in modo che questa legge si faccia Si aggiungono poi gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 che conoscete, delle Nazioni Unite Che chiedono di fermare il degrado del suolo e del territorio E di allineare la crescita del consumo di suolo alla crescita demografica del paese L'Italia è un paese in cui questa crescita demografica non c'è ma si riduce Per cui il consumo di suolo addirittura, secondo studi fatti da esperti, dovrebbe essere azzerato ancora prima del 2030 Cioè di quella data che l'Unione Europea si era posta come obiettivo Nel 2019, quasi la metà del suolo perso in 12 mesi, si trova nelle città Quindi questa è la motivazione anche, la seconda parte della mozione che riguarda la città di San Benedetto E meno nelle aree periferiche, diciamo, rispetto alle città Allora, sostanzialmente questa mozione, io capisco tutte le obiezioni che sono state fatte Le paure, no? L'idea, ah non si può fare più niente, non è questo il punto Qui si tratta di esprimersi su una visione del futuro Su quale strada intraprendere È necessario esprimersi su questo e soprattutto studiare e fare in modo di avere dei progetti Che permettano alla città di San Benedetto Non solo di bloccare tutto quello che può essere bloccato dal punto di vista cementizio Ma anche e soprattutto di ridare alla città una forma di respiro Quindi decente, decementificare laddove è possibile e occuparsi del verde E questo è possibile per ridare appunto un po' di respiro a questa città Anche in vista, come ho detto prima, un altro intervento, dei cambiamenti climatici che sono in atto E che noi conosciamo, quindi non possiamo far finta di non vedere o di non sapere Perché sappiamo, sappiamo da molto tempo, dobbiamo prendere finalmente una posizione E cominciare ad agire Quindi la mozione, io l'ho ripresentata non per una tigna Tanto perché non piace lasciare le cose a metà, questo certamente Ma proprio per invitarvi ancora una volta a riflettere su questo argomento Grazie, io non voglio dire altro Perché naturalmente l'altro consiglio è stato Si è detto molto, ci sono stati molti interventi Quindi questo mi premeva semplicemente di aggiornare un attimo Il consiglio sulla situazione italiana E su quello che è possibile, è assolutamente possibile fare Anche a partire dalla città di San Benedetto Grazie Grazie consiglio Mandrelli Dichiaro aperta la discussione Prego consigliere Balloni Grazie presidente Oltre la premessa, visto che siamo ai titoli di coda di questi cinque anni Di tutti i consigli comunali Esprime in partecipanti la stima che ho per la consigliera Mandrelli Forse perché gli opposti coincidono E siamo gli eredi di partiti ideologici Che avranno avuto anche delle negatività Ma certamente incanalavano emozioni, inquietudini, passioni Desingue dei gruppi, delle comunità Nel costruire la struttura della società Abbiamo già fatto discussione la volta scorsa Su questo, come è stata sintetica La Mandrelli di presentare la proposta Dovremmo essere sintetici anche noi Devo dire che in realtà la perificacia Con cui la mozione viene rappresentata Meriterebbe di essere approvata Però la Mandrelli, quale professoressa Sa che molte volte le bocciature sono inevitabili Il problema per cui È chiaro che siamo tutti concordi sul principio generale Sappiamo anche che l'Unione Europea Ha fissato per il 2050 Il saldo zero del consumo del solo Ma su questi siamo tutti condivisi Il problema qual è? Che la stessa norma che giace ormai da anni in Parlamento Pone dei quesiti e ha delle problematiche Che non riescono ad essere risolte Ovvero Come tutti gli interventi pubblici Che sono tuttavia necessari Nello sviluppo di una società Di una città, della nazione Pensiamo anche al caso poi Che collega al nostro territorio Ovvero l'aggressione di infrastrutture Le autostrade Le pretelle Noi parliamo di pretella ad esempio Parliamo di ospedale nuovo Parliamo di servizi sportivi Parliamo di metropolitana di superficie Tutte strutture che chiaramente Vanno ad impattare il territorio E sulla realtà Ma anche essi sono servizi A sostegno della città Del beneficio Un beneficio pubblico Un beneficio del cittadino Quindi io vedo anche C'è il comitato Lo sappiamo Il solo Che è sicuramente importante Però quando si dice Per l'amore della città Blocchiamo tutto Ecco ma forse anche creare Ci servizi adeguati alla città Significa avere un amore Per la città Ecco su questo La mozione rimane Secondo me Abbastanza Vaga Abbastanza Astratta Cioè noi ci impegniamo A che cosa Se non sappiamo esattamente Come dobbiamo poi sviluppare Effettivamente il bene Per la città E su questo Sono proprio tutti Impattanati in Parlamento Perché sembra Una forma assolutistica Che come tutte Forme assolutistiche Francamente Io non apprezzo Dalla CRG Ma ai sistemi totalitari Quindi è chiaro Che è necessario Che su questo Si abbia Una visione Molto più addentrata Anche nei particolari Per come poi si possa Agire sul territorio A sostegno Di noi stessi E dei nostri benefici Tra l'altro Nella mozione Si fa un accenno E qui con l'occasione Per chiarire Un po' sulle varianti Un po' sul discorso Aramare Che adesso Ovviamente è tornato Di moda E mi si danno anche Delle considerazioni personali Su ciò che io penso Di queste cose In realtà Io ovviamente Se esprimo Delle considerazioni Quale amministratore Di questa città Quindi quelle norme Che l'amministrazione ha Le varianti Intanto Lo ribadiamo Non è un obbio Che vengono accolte Quindi Sono delle normative E privati Le presentano E poi Saranno valutate Proprio per valutarle In maniera adeguata Quindi Pocciarle A provarle In maniera sensata C'è stata una libra Del 24 novembre del 2020 In cui la giunta Ha deciso Che occorre Prima di valutarle Bene Inclusivo E negativo Che si crei Un documento Di indirizzo generale Per la città Quindi non è che Parliamo sempre Varianti con timore Nessuno dice Che siccome Vengono presentate Debbano essere approvati Secondo Il discorso E colgo anche qui L'occasione Di area mare Che è stato rappresentato Anche qui Facciamo confusione Qualcuno dice Il pallone Mi piace Il pallone Non interessa niente Io il mio pensiero personale Questo come viene negativo Riferisco Che essendo un progetto Che è stato presentato adesso In pianificazione Conforma Il piano regolatore È chiaro che Impulso lo danno i privati Non è che il comune Adesso sta partendo Su area mare Quindi da questo punto di vista C'è questa situazione Le private hanno portato avanti Questo piano Conforme al piano regolatore Verrà valutato Perché è vero Che la Giunta Potrà bocciarlo E lo boccerà Se nel piano parteneggiato Che è stato presentato Non saranno conformi A ciò che Prendi servizi Ma poi ci sarà anche Di mezzo della provincia Approverà Quindi bisogna valutare La viabilità L'impatto acustico Le situazioni Congiornenti I servizi commerciali A sostegno Del denso Che è stato presentato Quindi sono tutte situazioni Di cui c'è sempre Un timore eccessivo Quando ciò dovranno fare Un percorso E dovranno essere frutto Di situazioni E di verifiche Per cui è chiaro Che la Giunta Potrebbe Se non c'è questa Pianificazione Conforme all'indirizzo Della città A bocciare anche Il progetto Che è confuso Al piano regolatore Perché noi dobbiamo Non confondere Un conto è Perché poi si citano Sentenze Anche un pochino Delle volte Un po' a caso E sono anche sentenze Sappiamo che hanno Sempre un valore specifico E' chiaro che La Giunta Può rifiutare Se non c'è la confusità Con le prescrizioni Che danno Ma la Giunta Non può certo negare Che ci sia un piano regolatore E il progetto C'è comunque un piano regolatore Quindi l'accordo Rimane valido Così come Per essere modificato Debba esserci sopra A questo nuovo Zona o territorio Della città Situazioni diverse C'è un bacino Che è regionale Che prevede Di bloccare Quella situazione E quindi è chiaro Che dovrà verificarsi Anche la decisione d'uso Cioè sono altre tematiche complesse Che noi a volte Semplifichiamo E questo crea Disaglio rispetto Alla verità E alle nozioni Giuste e doverose Che la città deve avere Ognuno ovviamente Ha il suo pensiero E lotterà Per quello che ritiene opportuno Quindi io non esprimo Un pensiero personale Ma esprimo ciò Che come amministratore Dovrei spiegare Quello che può accadere Quello che i privati Possono fare E non possono fare Tornando quindi Sulla mozione Rimane tutti i dubbi Che riguarda me Insomma tutti i dubbi Che io ho espresso E molti altri Hanno espresso insieme a me La volta successiva È una mozione Che in linea di massima Ha una cornice importante Ma approvandola Approviamo qualcosa Un pochino al buio Molto astratto Cioè che significa Noi non possiamo realizzare più niente Lo possiamo fare Come lo facciamo Solo gli interventi pubblici Ma se il pubblico Non ha La disposizione finanziaria La norma prevede Un supporto dei privati Che facciamo Eliminiamo Cioè il rapporto Diretto e regolare Che è diverso C fra il pubblico e il privato Norme che devono essere rispettate Che fa Noi non le eliminiamo Perché in questo momento Cambiamo posizione Quindi è chiaro Che la mozione Come la norma Credo Il segno di legge Che pende in Parlamento Ha bisogno Necessariamente Inevitabilmente Di modifiche Di integrazioni operative Per chiarire esattamente Che cosa si va a votare Che cosa accadrà Dopo aver votato La nostra è una mozione Chiaramente Come propone Mandela A sostegno Di segno di legge Ma voglio dire esattamente Siccome il segno di legge È assolutamente vago È altrettanto oscuro Che noi si possa Invece tranquillamente Dire no Lo vogliamo Lo appoggiamo Che cosa Appoggiamo tutti i dubbi Che il segno di legge Lo stesso Insomma Pur apprezzando Inevitabilmente Il ragionamento Il consumo del sole È chiaro Che è diventato un problema Non solo certamente Appunto abbiamo detto Nazionale Italiano Marchiciano Nella Cielo San Beto e Trondo Ma a livello Sicuramente Tutti i paesi industrializzati E norme sono ormai Anche sovranazionate Da questo punto di vista Però tutti quanti Stanno ovviamente Valutando Come poter fare Per evitare Che sia un qualcosa Che in realtà Invece portare Un beneficio effettivo La popolazione Comporti invece Una serie di Di blocchi Di gangli In cui alla fine Non se ne esce neanche noi Questo è Quindi ecco io Rispettando sicuramente Il pensiero La volontà La decisione Di ripresentarla Rimango sulle mie posizioni Insomma Ne abbiamo parlato a lungo Ecco Non vedo Proprio perché Non è stata modificata Tra l'altro Qualcosa è diverso Che mi porti A dare un proviso Diverso da quello Che ho dato precedentemente Grazie consigliere Io questo lo immaginavo Però spero di essere Stata chiara Nel dire Che questa proposta Che questa mozione Diciamo Va a spingere Affinché si discuta Finalmente questa legge Che poi Ma non sarà Magari esattamente Quella Citata O quelle citate Ma necessita di aggiustamenti Di un compromesso Tra varie posizioni Ci mancherebbe Perché la facciano Allora il punto è questo Noi abbiamo una necessità E urgente Noi italiani Affinché ci siano Delle regole precise Sull'arrivare Sull'arrivare All'azzeramento Del consumo Di suolo E non solo Anche a quello Che viene definito Consumo di suolo Sotto zero Cioè a ridare Diciamo al suolo Cementificato Quel respiro Che in questo momento Non ha Quindi con altre Naturalmente Altri progetti Altri interventi Che sono già Diciamo A disposizione No? Di chi volesse Studiare un po' La questione Del Di tutti noi Perché ci sono esempi Un po' in tutto il mondo Diciamo industrializzato Che vanno In questa direzione Ora io Naturalmente Penso che questo Sia compito Di chi Andrà a amministrare Con il sostegno E la spinta Poi di coloro Che dall'esterno Studiano Queste questioni E possono Coadiuvare L'azione politica E amministrativa Anche all'interno Di un territorio Come il nostro Quindi Io so bene So bene Che il compromesso Politico È necessario In tutte le cose Però so anche bene Che questa è una questione Davvero Davvero urgente Non è l'unica Ma è certamente Una delle questioni Diciamo Sul piatto Internazionale Di cui ci dobbiamo occupare Ovviamente non è l'unica Ma abbiamo Abbiamo detto Abbiamo visto Anche qualcuno Ha parlato prima Della necessità Di accelerare I processi Le pratiche All'interno Dei lavori pubblici Per permettere Appunto Per esempio L'utilizzo Della riqualificazione Degli edifici Degli edifici Dal punto di vista Energetico E non solo Allora sono tutte questioni Che vanno In qualche modo Si mettono insieme Con l'unico obiettivo Che è quello Di migliorare La vivibilità Diciamo Dei cittadini E soprattutto Di non rischiare Eventi disastrosi Perché questo È il punto Lo sappiamo Noi siamo Un territorio Fragile Talmente fragile Consigliere Ah scusami Hai ragione No no Perché la questione A me mi prende Molto Allora Ti lascio Dopo Gli interventi Ti lascio Il diritto Di replica Ci mancherebbe Però Finiamo Prima gli interventi La consigliere Capriotti Dando un messaggio Di servizio Non so se Sanguini è entrato Perché stava Cercando di entrare Sì sì Tutto ok Grazie Io Due parole Per dire Mi dando Grazie A Falaria E grazie A Gianni Perché mi sei scontrato Due bellissimi interventi Due parole Per dire Che Flavia Ha dato Dei dati Di media nazionale San Benedetto È notevolmente Superiore A quella media Perché È il luogo Tra i più Densi Di popolazione Ma anche Di urbanisti Anche a livello urbanistico Se noi pensiamo Se noi pensiamo Che quel dato Che vi ho dato prima Di 4200 seconde Seconde abitazioni Sono dei non residenti A cui si aggiungono Seconde abitazioni Dei residenti Si può immaginare Quanta sovrapproduzione Di appartamenti Ci sono Per questa città L'altro dato Che purtroppo A me ha visto Quest'amministrazione Come protagonista È Il riempimento Di spazi Dove c'erano Ville Sono diventate Palazzi Quindi sono Incrementati Diciamo I volumi Sono sovra incrementati E il Benedetto piano casa A San Benedetto Si è trasformato In piano palazzi Cioè Quello che era stato fatto Per poter permettere A una famiglia Di ospitare Un altro appartamento Sono diventate Dei palazzi E dove c'erano Alberghi Sono diventati Palazzi Questo Dà un indirizzo Dove stiamo andando Cioè Noi stiamo Rinnegando In parte Del nostro passato E stiamo diventando Zona di Speculazione Per carità È una scelta politica È una scelta politica Grotta a mare Non consente Di costruire Palazzini Di quel tipo Che abbiamo visto In quest'ultimo periodo È in prima fila Davanti Al mare Ecco Per cui Il manifesto Diciamo Che la Professoressa Mandrelli Ha presentato Era un po' Un manifesto politico Va benissimo Ognuno fa la propria scelta Io mi sento Di Di dire Che bisogna Da una regolamentazione Seria A questo tipo Di sviluppo Non mi sento Di negarlo A priori Perché come diceva L'avvocato Balloni L'ospedale Occuperà volumi Giusto Ma anche Ma anche La discoteca O i servizi Che noi vorremmo fare Bene Però mi sento Di dire Che questi volumi Dovranno essere Giustificati E L'indirizzo Che un'amministrazione Vuole prendere Con una mozione Che non è che Non andiamo a votare niente Ma ne apputa Un indirizzo In sostanza E io mi sento Di dire Che Chi A chi amministrerà La città O a chi amministrerà L'Italia È un indirizzo Importante E bisogna mettere Un freno A questo A questo aspetto Tutto qua Per cui io Faccio anche La mia dichiarazione Voterò a favore Della mozione Unitaria Grazie Altri interventi Prego Consigliere Marzonetti Grazie Buongiorno a tutti Come diceva La professoressa Mandrelli La sostanziale Novità Di questa mozione Questa Quella Del 17 11 È che Nulla è cambiato Le principali Motivazioni Che rendono Non condivisibile Secondo me La mozione Sono scritte A pagina 3 Nel primo passaggio Nel confermare L'indicazione Che non Di non consentire Il consumo Del suolo Nella nostra città Per qualsivoglia Scopo E destinazione Si riporta La frase Fatti salvi Interventi A carattere Esclusivamente pubblico Senza partecipazione A qualsiasi titolo E in qualsiasi fase Di soggetti privati Che non possono essere Realizzati Attraverso Reutilizzo Punto fermo Rimane l'articolo 42 Della costituzione Che tutela La proprietà privata In quanto riconosciuta E garantita Dalla legge Sono le leggi A tutelare Il territorio E non certo Indirizzi Meramente politici O filosofici La legge Numero 1150 Del 42 Si fonda Sul principio Percadine Del bilanciamento Che mira All'ordinato sviluppo Del territorio In quanto massimo Interesse pubblico Lo Ius edificandi Bilanciato Con interessi pubblici Non prevede certo La cancellazione assoluta Del diritto Di edificare Solo perché Il promotore O il richiedente Non appartiene Alla sfera pubblica Il comune È sicuramente Al centro La pianificazione Del territorio Ma ciò Non riconosce Il potere finalizzato All'emanazione Di vieti assoluti Non basati Sul riscontro Prima di studio Il territorio E poi progettuale Il territorio comunale Va pianificato Con la massima salvaguardia L'ente dispone Nella disciplina d'uso A porzioni Con cui indirizza Lo spazio territoriale Nel massimo rispetto Alla qualità Della vita Dei cittadini Nel pieno rispetto Dell'ambiente E della tutela storica Del paesaggio Alla nostra città Serve un rapporto Equilibrato Fra spazi pubblici Privati Infrastrutture E servizi Rapporto Del costruito Equilibrato Inteso Non solo Come intensità Del costruito Ma soprattutto Nella qualità Dell'urbanizzazione Che mira Il benessere sociale E la tutela ambientale Altro passaggio Della mozione Che non convince Lo si trova sempre A pagina 3 Leggo testualmente Il semplice Criterio economico E le esigenze Di finanza comunale Non possono essere Motivi sufficienti Per consentire Un nuovo consumo In ordine A questa espressione Profetica Preciso Che a giustificarla Non ci sono Studi Né urbanistici Né di bilancio Ebbene ricordare Che uno degli obiettivi Di un'amministrazione È quella Di vedere aumentare Il numero Dei residenti Che scelgono Di vivere la città Di lavorarci Di collaborare Alla crescita Del benessere Della comunità Fare scelte urbanistiche Di buon senso Oltre a scongiurare L'abbandono Dei giovani Per motivi Di arrivato costo Dei pochi appartamenti A disposizione Produce una diminuzione Della capacità attrattiva Di chi vorrebbe scegliere La nostra città Come luogo per vivere Vodare questa mozione Significa Non dare La prospettiva Ai giovani Di comprare casa A San Benedetto Vuol dire Garantire Solo Chi ha la fortuna Di vivere già A San Benedetto Vuol dire Non puntare A San Benedetto Come luogo attrattivo Per i prossimi 50 anni Perché chiuderci? Nessuno di noi Vuole consumare Il territorio Danneggiandolo Ma c'è chi crede In un nuovo San Benedetto Anche urbanisticamente Parlando E chi invece Ha paura di guardare Il futuro E le nuove sfide La San Benedetto Il futuro Deve considerare Non solo I confini amministrativi Così facendo Si cadrebbe Nell'effetto Nimbi Non nel mio giardino Costruire sì Ma non nel mio giardino Si andrebbe Verso un isolamento Politico Di collaborazione Amministrativa Con i nostri vicini Ma deve considerare I confini naturali È sensato Parlare D'urbanistica Quindi di servizi Infrastruttura Senza guardare A cosa produrrebbe La nostra scelta Sia nei comuni vicini Monte Prandone Grotta Mare Il futuro Non è nel non fare Ma nel fare il bene Per la nostra città E per i suoi abitanti Grazie Altri interventi Se non ci sono Altre richieste Di interventi Se la consigliera Mandrelli Vuole Terminare La sua replica Che aveva iniziato Precedentemente Precedentemente Grazie Presidente Sarò brevissima Perché è molto tardi Io devo andare a fare Il richiamo del vaccino Dunque Non ho capito Molto bene L'intervento Del consigliere Marzonetti Ma è un problema mio Chiaramente E quindi Non so che replicare Perché mi sembrava Un po' contraddittorio Tra la prima E la seconda parte Però Sinceramente Non è che mi Mi vorrei addentrare In questo tipo Di polemica Mi dispiace Solo che non ci sia rispetto Però Perché questo Il rispetto delle opinioni E anche delle proposte Fondamentali In ogni ambito In ogni ambiente Quindi anche qui No se mi si dice Che sono profetiche Non so cosa Insomma Io lo prendo Un po' Come un'offesa E questo Mi dà un po' Fastidio Io Ripeto È vero È vero Parlando di una città Che può crescere Che può crescere Chissà come Non può più crescere Perché Praticamente ci siamo esauriti Tutto quello che era Esauribile Non ci è rimasto quasi nudi Quindi questo è il punto Quindi I discorsi di Ampliamento Della cittadinanza Da questo punto di vista Costruendo ulteriori edifici Mi sembra un discorso Non realistico La riqualificazione invece Di tutto il patrimonio edilizio Della città Mi sembra un discorso fondamentale E riqualificando Naturalmente Io ho la possibilità Anche di mettere a disposizione Cubature Diciamo così Che sono già State costruite Ma che non sono A disposizione appunto Della cittadinanza Per le condizioni In cui sono Quindi questo Se ho risposto un po' Quindi io spero Che si capisca Che è un indirizzo Che è una mozione Di indirizzo Di spinta Anche affinché Questa legge Finalmente Veda la luce La discussione Nelle varie commissioni Sta cominciando E poi la luce E E E E poi la città Di San Benedetto Dovrebbe comunque Adeguarsi Perché come ha detto Giustamente Capriotti Noi siamo in una situazione Decisamente peggiore Rispetto alla media italiana Questo lo sappiamo Quindi Diciamo Non è che ci vogliamo ritrovare Poi ad essere La città Veramente Da poi basta girare Insomma Io cammino molto a piedi E vedo Quindi questo è Mi piacerebbe Che si mettessero in atto Delle proposte Attraverso questa mozione O sulla spinta Diciamo Di questa mozione Per vedere Quali territori Possono essere Rigenerati Quali edifici Riqualificati E per accelerare Questo processo Penso di aver detto Tutto quello Che dovevo dire Tra oggi E l'altra volta E quindi Io penso Che possiamo votare Grazie consigliera Mandrelli Dichiaro Chiusa La discussione E interventi Per dichiarazione Di voto Se non Ce ne sono Procediamo Subito Alla Votazione Della mozione Al punto Numero 15 Mozione Iniziativa Consigliera Slavia Marcella Mandrelli Sostegno La proposta Di legge Norme Per l'arresto Del consumo Di suolo E per il riuso Dei suoli Urbanizzati Decreto Legislativo S164 Discussione Al senato Commissioni Congiunte Agricoltura E ambiente Ballatore Contrario Balloni Contrario Capriotti Favorevole Chiarini Contrario Chiodi Contrario Crescenzi Contraria Croci Contraria Ursi Assente Delzompo Contrario Falco Contraria Gabriele Assente Girolami Contrario Lelli Contraria Mandrelli Favorevole Marzonetti Contrario Massimiani ha lasciato Morganti Non c'è Muzzi Contrario Pellei Favorevole Pignotti Contrario Piunti Contrario Coerentemente Pompili Contrario Sanguigni Favorevole Favorevole Con quattro voti favorevoli e quindici contrari il Consiglio respinge la mozione al punto numero 15 Passiamo al punto numero 16 Mozione iniziativa del sindaco Pasqualino Piunti ad oggetto Ascoli Piceno capitale della cultura 2024 Prego sindaco Grazie presidente Avete tutti quanti la mozione però ve la spiego brevemente insomma noi noi giunta con una delibera del 15 dell'11 di maggio recante la sigla Ascoli capitale della cultura 2024 atto di indirizzo ha invitato la giunta eh il sindaco che è anche consigliere comunale insomma portare e proporre al Consiglio questa mozione di cui oggi parliamo per la candidatura per sostenere la candidatura di Ascoli Piceno a capitale italiano della cultura del 2024 Voi sapete insomma che il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di capitale italiano della cultura proprio per sostenere incoraggiare insomma le attività delle città italiane nel campo della cultura intesa anche come leva di coesione sociale Per il 2021 a causa dell'emergenza immunologica è stato stabilito di prorogare il titolo questo titolo di capitale italiano della cultura della città di Parma che già insomma lo era e per l'anno 2020 Per l'anno 2022 il titolo di capitale italiana è stato assegnato a Procida e per il 2023 il governo attribuito senza abbandono vista insomma sempre questa emergenza questo titolo di assegnare alle città di Bergamo e Brescia che sono le città insomma che sono state più duramente colpite dalla pandemia Quindi di norma comunque il titolo di capitale italiano della cultura viene conferito sulla base di una apposita procedura di selezione insomma il comune di Ascoli intende partecipare a questo bando per l'assegnazione di questo titolo e ha ricevuto già l'adesione dalla regione Marche che riconosce insomma come il successo di una competizione renderebbe Ascoli un polo culturale di Traino per un intero territorio Un po' il concetto che ci siamo dati noi il sindaco di Ascoli con una PEC del 19 di marzo insomma ha chiesto al nostro comune di sostenere la candidatura nell'ambito di un progetto ambizioso insomma che poi promuove insomma l'intero sistema territoriale provinciale attraverso insomma la condivisione e la definizione di obiettivi strategici comuni Quindi questo è un segnale importante che San Benedetto dà a tutto il territorio ad Ascoli al di là di quelli che possono essere no situazioni diciamo campanilistiche che non esistono assolutamente quando bisogna vedere e guardare il beneficio territoriale Quindi io credo che la città di San Benedetto del Pronto considerata la capacità ricettiva e attrattiva che sia superiore a tutte le altre realtà territoriali si troverebbe ad essere una potenziale sede di soggiorni di visitatori quindi quello che ne avrà un beneficio sicuramente superiore a tante altre realtà Quindi questa era la volontà della giunta che è stata poi assolutamente supportata dai gruppi consigliari infatti questa mozione è firmata anche dai capigruppi dai cinque capigruppi di maggioranza e quindi la proponiamo così come è duogo al Consiglio Comunale per la sottoscrizione Grazie Grazie Sindaco Dichiaro aperta la discussione Se non ci sono richieste di interventi Dichiaro chiusa la discussione Immagino non ci siano neanche richieste per dichiarazione di intervento per dichiarazione di voto Quindi procediamo subito alla messa a votazione del punto numero sedici Iniziativa del sindaco Pasqualino Piunti ad oggetto Ascoli Piceno Capitale della Cultura Duemila ventiquattro Ballatore Favorevole Balloni Favorevole Capriotti 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 assente Aspetta che Tonino Capriotti si è lasciato Ha lasciato Tonino Capriotti Chiarini Astenuto Chiodi Favorevole 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 Crescenzi Favorevole Croci Astenuta Curzi Ha lasciato Del Sompo Favorevole Falco Favorevole Con tutte le mie osservazioni che ho già fatto Grazie Girolami Favorevole Lelli Favorevole Mandrelli Favorevole Marzonetti Favorevole Massimiani Ha lasciato Muzzi Favorevole Pellei Pellei ha lasciato Pignotti Favorevole Con serietà Piunti Favorevole Pompili Pompili Favorevole Sanguigni 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 ha lasciato Due, quattro, sei, otto, dieci, dodici, quattordici, favorevole Con quattordici voti favorevole Due astenuti L'Assemblea Approva il punto numero Sedici Con il quale concludiamo la seduta odierna del Consiglio Comunale Auguro a tutti un buon weekend E ci sentiamo alla prossima Grazie a tutti Buona giornata Buona giornata a tutti Buon weekend a tutti Ciao a tutti Ciao Buon weekend Ciao, buon fine settimana Oh Buon tempo Un turbo intanto Arrivederci a tutti Grazie Ciao